Scusate, allora chiedo, mi avvicino in là, se vi avvicinate, io mi sono messo qui così c'è tutto il tavolo a disposizione per i relatori. Buonasera a tutti, io voglio ringraziare gli illustri ospiti, il consigliere Dovere, il procuratore De Falco, il professore D'Amato, i colleghi di Cima, Marco Altamura, Luca Ferraris, Cosimo Versace, voglio ringraziare anche il nostro vice segretario generale che ci onora della sua presenza e sono felice che sia qui nella sede del Dipartimento, saluto i tanti colleghi che sono venuti da fuori e quelli che sono in collegamento. Oggi è una giornata importante per noi perché presentiamo questo volume che costituisce la parte conclusiva di un percorso che abbiamo avviato nel 2011 con il presidente Canzio, all'epoca con il consigliere Canzio che è partito da un confronto presso la Biblioteca Nazionale Centrale qui a Roma sul tema della protezione civile e della responsabilità nella società del rischio, chi valuta, chi decide, chi giudica e poi è proseguito con una serie di incontri a livello territoriale nel corso dei quali si sono sviluppati i concetti soprattutto della contaminazione della conoscenza. Il tema della responsabilità è un tema per noi dirompente e dopo l'evento del terremoto dell'Aquila e le ripercussioni che ci sono state a livello giudiziario devo dire che ognuno di noi ha avvertito un peso enorme sulle proprie spalle. Non che prima non ci fosse ma si è capiti quanto sia importante il concetto della corretta comunicazione. Devo dire che il tema della responsabilità io ancora oggi lo vivo e sorto quando c'è stato l'alluvione di Sarno nel 1998. Io ancora oggi che sono capo dipartimento firmo decine e decine di lettere con i colleghi del contenzioso che voglio ringraziare che regano nell'intestazione Basile, Gerardo ed altri. Basile Gerardo era il sindaco di Sarno che è stato condannato e lì è stato affermato per la prima volta credo in tema di protezione civile la responsabilità del sindaco in quel caso del sindaco come rappresentante del governo insieme con il prefetto per le attività di protezione civile. L'evoluzione normativa che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni ha portato anche a un cambiamento del concetto della responsabilità. Io ho sempre gestito la parte amministrativa contabile del contenzioso nel 2006 un vice avvocato generale dello Stato, Mandò si chiamava, all'epoca il vice avvocato generale, che mi chiamò un giorno e mi disse è inutile che come Dipartimento della protezione civile voi eccepite nelle vostre memorie difensive il fatto che il commissario delegato è un soggetto diverso dal Dipartimento della protezione civile, è un soggetto a cui imputare responsabilità per negligenza, colpa nelle sue attività. Esiste un principio affermato nell'ambito dell'ordinamento giuridico della responsabilità oggettiva e tutto ciò che è riferibile in tema anche di responsabilità civile fa capo alla protezione civile. E' da lì che abbiamo avviato un percorso, gli stessi mutamenti del quadro normativo anche il codice della protezione civile credo che abbia contribuito a chiarire che le funzioni di protezione civile sono le funzioni proprie dei diversi soggetti, del sindaco, autorità locale di protezione civile, dei presidenti e regioni e quindi anche le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, qui abbiamo il consigliere Dovere, lo sa benissimo, le ha scritte, avrà contribuito a scriverle, hanno precisato che la responsabilità in materia di protezione civile da parte dei sindaci è una responsabilità propria degli stessi. Però questo quadro normativo in evoluzione e soprattutto una mancata conoscenza di quelli che sono i fenomeni di protezione civile hanno portato il capo dipartimento Gabrielli in accordo con il consigliere Canzio ad avviare questo percorso e qui voglio ringraziare la fondazione Cima in particolar modo Marco Altamura perché non me ne voglia a male Luca ma questa è una materia, la parte giuridica tipica di Marco e competenza sua abbiamo messo in piedi un osservatorio perché non c'è evento nel quale si verificano dagni e anche purtroppo decessi in cui non viene poi rivalutata, riconsiderata, rianalizzata il comportamento di ognuno di noi quindi credo che con questi volumi siamo riusciti a fare un'opera di chiarezza con questo confronto abbiamo ragionato anche sulla competenza dei CTU che è uno degli elementi importanti perché il giudice, il magistrato si deve affidare alle competenze tecniche molto spesso le competenze tecniche non sono adeguate e soprattutto non vi è un'adeguata conoscenza di un mondo così complesso come quello della protezione civile. Con la pubblicazione degli atti di questo volume e con l'incontro di oggi si chiude un ciclo ma credo che noi insieme con i presenti a questo tavolo, insieme con i colleghi di Cima continueremo a lavorare per continuare in quell'osservatorio e per fare anche delle proposte laddove possibili che ci permettano di meglio chiarire i termini della responsabilità. Chiudo ricordando una cosa, qualche mese, un anno fa, era aprile del 2018 quando io ho parlato ai miei colleghi di T-Alert perché nel decreto sblocca cantiere c'è una norma, l'articolo 28 che introduce nel nostro Paese il sistema, la piattaforma nazionale di allertamento della popolazione. Quando io ho parlato di allertamento massivo della popolazione mi è stato detto in modo costruttivo è chi schiaccia il bottone perché la preoccupazione è di qualcuno che debba schiacciare il bottone. Lì ho anche spiegato che noi dobbiamo superare questo concetto perché soprattutto per quanto riguarda l'uso della tecnologia e i fenomeni che possono essere osservati attraverso la nostra rete radar dovremmo arrivare a un sistema di allertamento automatizzato dove la responsabilità che noi avremo ed è una responsabilità enorme sarà quella di definire gli standard dell'allertamento in quali casi fare l'allertamento ma io sono convinto che questa è una responsabilità che come operatori della protezione civile ce la possiamo e ce la dobbiamo prendere tutti perché abbiamo le competenze tecniche e comunque abbiamo strutture come la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che ci può supportare in questa attività quindi io mi fermo qui con la mia introduzione e do la parola a chi modera a te Luca ok grazie Sì grazie grazie Capodipartimento grazie Angelo per questi saluti per questa introduzione prima di dare la parola ai nostri relatori e presentarli volevo un attimo ricordare due numeri incominciare a contestualizzare il campo da gioco all'interno del quale poi giocheremo questa partita questa oggi pomeriggio in dieci anni come Dipartimento e come Fondazione Cima abbiamo istituito questo osservatorio sui procedimenti penali che interessano il sistema di protezione civile e ad oggi vi dico che sono 116 sono ben 116 i procedimenti penali che interessano a diverso titolo il sistema di protezione civile di questi 116 11 procedimenti sono definitivamente chiusi di quelli definitivamente chiusi molti li ricordiamo perché quello che ha prima accennato il capodipartimento Sarno Commissione Grandi Rischi Aquila 2009 Genova 2011 Val d'Aosta 2000 e sicuramente questi eventi chiusi questi eventi giuridici questi procedimenti chiusi ci hanno insegnato molto e tante cose poi sono riportate nei volumi prima citati dal punto di vista degli imputati sicuramente in questo osservatorio c'è sia la parte politica e in primis sono i sindaci ma ci sono anche tanti tecnici e funzionari che a vario titolo nelle diverse amministrazioni sono ogni giorno chiamati a pigliare delle decisioni a pigliare delle responsabilità per quanto riguarda le condotte contestate le condotte contestate dall'osservatorio emergono che sono diverse naturalmente ma ci sono alcune condotte contestate che praticamente troviamo in moltissime in capi di diputazione e in moltissime sentenze sicuramente se dovessimo fare una classifica la prima riguarda il tema della comunicazione il tema della comunicazione è in particolar modo non aver avvertito i cittadini del rischio imminente o comunque averlo fatto in maniera scorretta l'altro tema che è presente è quello della pianificazione in particolar modo quello della pianificazione di protezione civile delle volte non presente o delle volte fatta male legato al tema della pianificazione c'è anche il tema delle procedure di come gli operatori avrebbero dovuto comportarsi è vero anche e dobbiamo prenderne atto che il sistema in questi dieci anni grazie anche a questo osservatorio a questi studi ha cercato di fare dei passi avanti ha cercato di crearsi forse li possiamo chiamare quasi degli anticorpi sicuramente il codice della protezione civile dove sono state chiarite meglio le responsabilità dove la pianificazione di protezione civile è stato messo come un elemento fondamentale per le attività di protezione civile aggiungendo anche tutto il tema come questa debba essere partecipata con i cittadini sicuramente le procedure le procedure presso le regioni presso i centri funzionali e i relativi audit cioè quindi le verifiche delle procedure in tempo di pace sicuramente un altro elemento è un altro anticorpo che il sistema di protezione civile in questi anni si è dato e prima come ricordava anche il capo dipartimento c'è anche il tema della comunicazione come il dipartimento il sistema nazionale di protezione civile in questi ultimi mesi stia facendo un percorso per dotarsi di un sistema altamente tecnologico per arrivare ad avvertire singolarmente i singoli cittadini del pericolo imminente detto tutto ciò devo dire da osservatore ma forse anche da giocatore di questa partita mi sembra che il sistema stia facendo degli sforzi proprio per cercare di limitare questo bollettino di guerra che comunque sul sistema pesa molto la domanda che magari poi potremo fare nel momento della discussione ma nonostante tutto ciò e nonostante lo sforzo che il sistema sta facendo la mia personale paura è che tutto ciò forse non sia sostenibile non sia sostenibile per due motivi il primo è un motivo naturale i cambiamenti climatici in atto fanno sì che la frequenza di questi eventi nei prossimi anni nei prossimi mesi aumenterà sta già oggi aumentando aumentando la frequenza degli eventi aumenterà la frequenza degli eventi giuridici mi sembra che ci sia un rapporto quasi di linearità tra i due tra i due tipologie di eventi l'altro tema che noi abbiamo definito come il paradosso del previsore o del tecnico è quello che più tecnologia più know-how noi mettiamo in campo come sistema e facciamo lo sforzo di mettere in campo anche attraverso il rapporto con la comunità scientifica con la commissione grandi rischi e quindi cerchiamo in qualche modo in un sistema che per forza è probabilistico di diminuire i cosiddetti falsi allerta cioè di essere sempre più corretti di creare sempre meno disagio ai cittadini più e qui sta il paradosso aumentiamo la probabilità dei mancati allerta quindi aumentiamo la probabilità che gli operatori poi possono incorrere in un evento giuridico e questo cosa fa? e questo ha degli effetti che in talune situazioni in talune situazioni blocca tutto io mi sono trovato coinvolto proprio recentemente per la frana sulla 6 e a un certo punto ad un tavolo dove c'erano tutti gli enti coinvolti nel sistema di protezione civile nessuno si voleva prendere la responsabilità di riaprire l'autostrada di redare un piano che potesse permettere di aprire l'autostrada nessuno voleva prendersi la responsabilità di definire quelle soglie che con quel sistema di monitoraggio avrebbe permesso di riaprire la frana e devo dire che anch'io che ero coinvolto che su invito del capodipartimento dovevamo mettere il sistema e definire delle soglie devo dire che in molti momenti mi sono un po' sentito come quel geologo P nell'alluvione del 2000 che anche lui aveva un sistema di monitoraggio che anche lui era chiamato a decidere quando aprire e chiudere e che poi a un certo punto non ha chiuso nel momento in cui doveva chiudere ed è stato poi condannato. Mi fermo qui perché se no sto rubando un sacco di tempo ai relatori e chiedo al primo relatore al consigliere al consigliere Salvatore Dovere magistrato ordinario oggi consigliere della Corte Suprema di Cassazione presso la quarta sezione di aiutarci a capire meglio il mondo il mondo dei giudici e soprattutto a darci delle chiavi di lettura per i tanti contenuti che sono nel in questo in questo volume e magari anche a rassicurarci un po' Facciamo finta che il nastro si è fermato prima dell'ultima cosa Buonasera buonasera mi ero preparato scusate la voce mi ero preparato un breve intervento da bravo venditore volevo vendervi il libro il libro rappresenta il coronamento di un percorso complesso difficile molto bello a dire la verità la scuola superiore della magistratura ha dedicato una sua iniziativa di formazione specificamente ai temi proposti dal mondo della protezione civile penso che sia la prima volta in assoluto e penso che sia il diciamo la tappa non dico il traguardo mi auguro non sia il traguardo la tappa che viene dopo quel percorso di avvicinamento dei due mondi che è stato già rappresentato dalle parole del capo dipartimento il dottor Borrelli a me non piace la parola contaminazione la contaminazione fa pensare a una mescolanza di funzioni di posizioni penso che ognuno debba essere nel proprio quello che invece occorre sicuramente conoscere è la logica alla quale risponde ciascuno dei mondi che vengono in considerazione cioè noi dobbiamo sapere voi che cosa precisamente fate voi dovete sapere noi come pensiamo come ragioniamo come svolgiamo la nostra funzione e questo è necessario innanzitutto perché ci sia credibilità verso la funzione giudiziaria e perché ci sia serenità nell'espletamento dei compiti che a voi competono ora nel settore della colpa questo è particolarmente difficile bisogna ammetterlo senza fare alcun come dire alcun abbellimento le cose sono oggettivamente complesse nei primi anni del secolo scorso i reati colposi erano come esperienza giudiziaria una realtà estremamente rarefatta e anche dal punto di vista qualitativo si trattava di reati di manifestazioni di delinquenza colposa che oggi farebbe sorridere il carretto che investiva il bracciante piuttosto che il grave che cascava sulla testa di colui che attraversava la strada e così via piccole cose anche perché il mondo dell'imprenditoria e più in genere il mondo delle classi della classe borghese era a riparo dal controllo di legalità per motivi diversi invece negli anni che vengono dopo gli anni sessanta il secolo scorso il controllo di legalità sul mondo della colpa esplode e oggi dal punto di vista anche criminologico e forse rappresenta l'ambito più interessante perché è tutto ancora da scrivere persino la criminologia fatica a identificare il tipo criminologico colposo ci sono degli studi in materia di circolazione stradale ma per esempio il medico che tipicamente compie condotte colpose non è un tipo criminologicamente definito e ovviamente non lo è neanche l'operatore della protezione civile cioè noi non sappiamo in realtà che cosa conduce a configurare a realizzare che cosa porta ad essere soggetti che svolgono la propria attività in diciamo con uno standard di diligenza di prudenza e di perizia inferiore a quello che è atteso qualche idea ce l'abbiamo oggi riguardo al mondo dell'impresa ma probabilmente anche un'idea ingenua perché è alimentata dal concetto che l'imprenditore ricerca il profitto in realtà poi se si guarda il mondo dell'impresa l'orizzonte è molto più variegato ci sono imprenditori che investono molto sulla sicurezza e ciò nonostante il fatto colposo sussiste quindi ecco questo solo per dirvi che trattiamo di qualcosa che è estremamente difficile già dal punto di vista fenomenologico circoscrivere definire e descrivere se poi andiamo sul piano del diritto abbiamo praticamente delle formule normative praticamente vuote si dice del reato colposo che è una clausola aperta che va definita e che viene definita dall'intervento giudiziario dalla ricostruzione del giudice che seleziona un po' come accade con i reati omissivi da un magma fattuale dalla fenomenologia da quello che l'accadimento di vita reale che è accaduto ritaglia ciò che è un rilievo penalistico ai fini dell'applicazione della norma penale complessità su complessità vaghezza su vaghezza quindi da una parte noi abbiamo un controllo di legalità sempre più diffuso pensate soltanto a quello che sta vivendo la classe medica che è passata da una condizione aristocratica di sottrazione ad ogni responsabilità di carattere penale per un approccio paternalistico indulgenziale della giurisprudenza siamo fino ai primi anni del dopoguerra del secondo dopoguerra a un controllo di legalità pressoché quotidiano particolarmente ficcante particolarmente pervasivo tanto da indurre quel meccanismo reattivo che va sotto il nome di medicina difensiva e noi sappiamo che il pericolo della protezione civile difensiva esiste allo stesso modo ma esiste anche il problema dell'aviazione difensiva cioè ogni settore di attività lecite ma rischiose che oggi investito in modo esteso dal controllo di legalità reagisce cercando di sollevare questo peso ovviamente con delle ricadute sistemiche particolarmente diciamo pregiudizievoli perché se io scelgo di somministrare il farmaco non perché serve ma perché così io sono comunque al sicuro determino un danno alle risorse radiali e probabilmente anche alla salute del mio paziente e non certamente faccio ciò che è veramente richiesto dalle necessità di trattamento terapeutico allora riuscire a comprendere le logiche significa essenzialmente due cose quando noi abbiamo pensato a strutturare questo corso di formazione abbiamo voluto mettere in primo piano quelli che sono i nodi critici della responsabilità colposa in generale e con particolare riferimento al mondo della protezione civile per cui anche se mi rendo conto molti dei testi possono essere abbastanza difficili per chi non ha delle competenze giuridiche aggiungerei delle competenze giuridiche abbastanza avanzate però già la titolazione l'elencazione dei vari temi dà un'idea di ciò che oggi è sul tappeto e urge tanto alla riflessione giuridica penalistica tanto a chi è come voi sul territorio il tema delle posizioni di garanzia chi è garante chi gestisce il rischio ma soprattutto come si delimita la posizione di garanzia rispetto ad altra posizione di garanzia in un sistema come quello della protezione civile dove per esempio si passa da un livello di rischio ad altro a seconda dell'evento e quindi da gestori di tipo A gestori di tipo B a gestori di tipo C come si riesce a definire ma ex ante prima che intervenga il giudice chi è tenuto a fare cosa voi proponete in modo particolarmente drammatico questo tema che ricorre frequentemente nei nostri repertori nelle nostre sentenze nelle nostre riflessioni proprio perché avete una fonte come dire sfuggente di creazione della posizione giuridica sul campo ovviamente nelle norme tutto scritto soprattutto nel nuovo codice le cose sono scritte in modo molto più preciso e dettagliato ma poi in realtà la posizione giuridica si attualizza di fronte al fenomeno e la definizione del fenomeno è molto difficile è possibile che la definizione del fenomeno fatta dall'operatore non coincida con quella che poi viene fatta dal giudice tutta la ricostruzione diventa dissonante quella che ha fatto l'operatore prima e quella che fa il giudice poi e poi c'è il campo come vi dicevo della relazione con l'altro io credo che un elemento di particolare interesse per un operatore sia quello di considerare l'esistenza di questa relazione con altre posizioni di garanzia non come il preambolo di un allontanamento dall'operatività ma come l'innesto di una diversa operatività quello che noi chiamiamo intreccio cooperativo pensate all'equipo operatorio per esempio quando si opera con altri l'esistenza di un altro soggetto obbligato a fare non significa affatto sottrazione ai propri obblighi perché quantomeno si determina la necessità di garantire che la comune operatività non determini essa stessa un nuovo rischio volendo parlare in termini molto semplici quando io confido che un altro soggetto debba intervenire e quindi non gestisco più il rischio che mi è proprio con ciò stesso realizza una nuova condizione di rischio che mi verrà imputata e siccome ognuno di noi lavora in realtà all'interno di una virtuale equip diacronica sincronica verticale orizzontale che sia ecco che la posizione di garanzia quella che noi magari riusciamo anche a descrivere bene guardando la norma deve necessariamente essere ampliata a considerare questo che noi chiamiamo il rischio interferenziale che nasce dalla correlazione operativa tra le diverse posizioni nel testo questo è un tema che viene abbastanza diffusamente trattato ma che segnalo soprattutto a chi può essere portato a pensare che avendo correttamente gestito il proprio rischio può poi disinteressarsi di come accade di come avviene il passaggio a un altro livello di rischio e quindi a un altro gestore e guardate in questa evoluzione che ho tratteggiato brevissimamente prima della giurisprudenza in materia di colpa questo concetto di rischio è emerso da poco tempo questo per rappresentarvi che in realtà noi veniamo provati dalle vostre esperienze attraverso le vostre esperienze e ovviamente non solo delle vostre tutti coloro che operano gestendo gestendo un rischio lecito noi stiamo realizzando degli avanzamenti concettuali che rappresentano quel percorso di avvicinamento alla realtà che se noi consideriamo la giurisprudenza anche soltanto di 30 40 anni fa era inimmaginabile quando io ho iniziato a fare questa professione lo racconto spesso questo aneddoto il mio magistrato affidatario mi assegnò un fascicolo che riguardava un incidente stradale con esito mortale e io ricordo ancora il capo di imputazione era fatto praticamente di due righe perché alla guida di un veicolo per colpa investendo il pedone ne cagionava la morte la colpa era inesistente in realtà c'era solo il nesso causale materiale oggi noi sappiamo invece che la colpa è un universo ricchissimo quel capo di imputazione che prima costava di due righe oggi ne costa almeno di 20 perché deve essere descritto tutto ciò che doveva essere osservato doveva essere fatto come regola cautelare e non è stato fatto e bisogna descrivere poi perché quella violazione è causa di quell'evento e non invece mero accidente che storicamente si è accompagnato ad un evento che in realtà ha un'altra causa che non è riconducibile a quel soggetto quindi questo quello che dicevo prima non mi piace chiamare contaminazione ma comprensione delle logiche rispettive noi abbiamo provato a realizzarlo in quella sede portando i magistrati e non soltanto i magistrati in un'attività di formazione che era parametrata sull'esigenza sull'operatività della protezione civile attraverso il libro noi speriamo di avere invece un un uditorio più ampio di riuscire a mostrare anche le logiche del giudice a chi è operatore della protezione civile mi si chiedeva prima una parola di rassicurazione non è nei miei compiti istituzionali e volentieri mi sottraggo però posso certamente dire che questo percorso evolutivo c'è ben chiaro e c'è molto chiaro per esempio che abbiamo la necessità di rendere prevedibili le nostre decisioni la cosiddetta predittività quando io cominciavo a parlare con i colleghi di previsione della decisione anche solo dieci anni fa ci mancava poco che non dovessi rifugiarmi in qualche stanza perché sembrava essere un attacco all'autonomia all'indipendenza come se si prefigurasse un valore del precedente tale da prefigurare una gerarchia all'interno della giurisdizione niente di più diverso ma è certamente impensabile che cose analoghe sia pure con accenti con sfumature necessariamente diverse non possano portare a decisioni prevedibili quindi noi siamo molto consapevoli del fatto che dobbiamo riuscire a rendere prevedibile il nostro giudizio ma come si fa? il problema è come si fa qui secondo me veramente dobbiamo fare l'uno un passo verso l'altro il passo che noi dobbiamo fare verso il gestore del rischio è quello di capire che possiamo rimanere vittima di distorsioni cognitive che ci portano a enfatizzare ciò che è accaduto nel giudizio di prevedibilità e di evitabilità quello che si chiamava il post hoc ergo propter hoc che poi si dice in vulgare senno di poi e che oggi le neuroscienze hanno dimostrato essere vere e proprie distorsioni cognitive e cioè si è dimostrato che di fronte a un evento che si è verificato colui che è chiamato a giudicare tende a ritenere che fosse prevedibile quell'evento molto più di quanto non lo fosse in realtà o di quanto non lo non fosse considerato quando era rappresentata l'ipotesi della sua verificazione non la realtà storica della sua verificazione e anche l'entità del danno incide sul giudizio di evitabilità più è rilevante il danno più il decisore reputa che quel danno poteva essere evitato ora se noi caliamo queste distorsioni cognitive nel giudizio sulla colpa vediamo che praticamente per il fatto che si è verificato l'evento il giudice tende a ritenere che il soggetto imputato era in condizione di prevedere e di evitare l'evento allora il nostro antitodo deve essere quello di essere avvertiti dell'esistenza di queste distorsioni cognitive che hanno ormai una base scientifica non è più un discorso di massime di esperienza di sapienza comune ma non convalidata da un portato scientifico e qual è lo strumento lo strumento è quello di farsi assistere io dico prendere le distanze rispetto a questi giudizi facendosi assistere non vorrei qui sentire i fischi negli orecchi rispetto a quello che diceva il Dottor Borrelli in inizio farsi assistere dall'esperto e cioè è vero che il ricorrere all'esperto è fonte di un problema ma è fonte di un problema se il giudice rimane come dire supino rispetto al contributo dell'esperto uno dei passaggi che nella giurisprudenza più recente si sono fatti riguarda proprio questo aspetto che noi chiamiamo il paradosso della perizia e cioè come può il giudice che per definizione non è in grado di conoscere tanto che ricorre all'esperto poi valutare la correttezza di ciò che l'esperto riporta nel processo c'è un dibattito che nasce negli Stati Uniti d'America addirittura nel 1913 se non vado errato e arriva ai nostri giorni e che da qualche tempo ha travalicato anche i confini dell'oceano ed è arrivata anche in Italia nella giurisprudenza italiana oggi noi sappiamo che il rapporto con l'esperto si caratterizza per il fatto che il giudice non opera una verifica del merito scientifico di ciò che l'esperto gli porta nel processo ma è una verifica di tipo metodologico ed è l'unica a quale il giudice può essere abilitato per formazione e per competenza noi dobbiamo vedere se ciò che l'esperto porta nel processo costituisce veramente o no scienza alla luce di un del rispetto di indici che secondo il sentire comune attuale ci dicono che un determinato sapere è scienza piuttosto che scienza spazzatura non scienza mi dice che il modello che aveva adottato non era idoneo non era efficacemente attuato e allora a me conviene adottare questo modello che ha una importante funzione di prevenzione quando poi in realtà qualsiasi cosa io faccia potrà essere vanificata perché il giudice decide col senno del poi ho scoperto che noi possiamo offrire questo passo in avanti che vi ho appena descritto ma il mondo delle imprese non è disponibile ad adeguarsi alla migliore scienza perché è chiaro l'esperto mi porta quello che poi è la migliore scienza ma se il mondo delle imprese non è disponibile ad esempio per motivi economici ad adeguarsi alla migliore scienza e allora io avrò fatto il passo in avanti ma il mondo dell'impresa sarà rimasto lontano e il giudizio complessivo sarà sempre di penalizzazione di responsabilizzazione questo per dirvi che quindi quelle fasi importanti che oggi sono scandite di valutazione del rischio di gestione del rischio di comunicazione del rischio se non trovano nell'operatore un soggetto attento a conformare il proprio comportamento ai migliori standard offerti dalla scienza difficilmente potrà trovare poi chiamiamola con un termine improprio comprensione in sede giudiziaria perché il giudice richiederà l'applicazione di quello standard ed è come vi ho detto l'unico itinerario di garanzia che può rendere prevedibili le decisioni e non più il giudice succube del senno del poi quindi dobbiamo fare gli uni un passo verso gli altri e questo libro credo che anche dal punto di vista simbolico manifesti la volontà di due mondi di comprendersi perché poi alla fine operiamo entrambi per realizzare il bene comune grazie consigliere grazie consigliere dovere ci ha dato un sacco di spunti e anche forse di parole che nei due mondi sono comuni una per tutte il tema della complessità della prevedibilità che sono punti in qualche modo critici per entrambi i mondi e forse ci potrebbero anche essere degli strumenti comuni per toccare questi due temi la parola adesso all'accusa e così introduco visto che non ci ha rassicurato troppo introduco il procuratore Giuseppe De Falco procuratore capo a Latina lo è stato prima a Frosinone ha fatto parte anche della direzione distrittuale antimafia a Roma a lui il tema naturalmente quello per noi anche un po' più spinoso cioè quello il tema delle indagini di come i procuratori affrontano le indagini in un settore connotato da grande incertezza grazie 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 dell'invito innanzitutto è assai stimolante assai interessante per un investigatore sia pure un investigatore non di polizia giudiziaria ma un investigatore giudice per fortuna fino ad oggi nel nostro ordinamento i pubblici ministeri sono dei giudici quindi hanno questo tipo di cultura giuridica confrontarsi con degli attori così importanti come sono gli attori della protezione civile nel nostro sistema paese purtroppo assai spesso caratterizzato da eventi calamitosi e luttuosi di fronte ai quali gli attori della protezione civile manifestano un'elevatissima competenza io ho letto gran parte di questo interessantissimo libro alla cui redazione non ho partecipato è assai interessante sotto il profilo giuridico ci sono dei contributi notevolissimi che penso possono essere utili non solo per i giuristi ma anche per gli operatori professionali ma mi devo occupare oggi di un qualcosa che è parzialmente diverso anche se strettamente connesso alle tematiche che sono affrontate nel libro il tema quindi delle indagini rispetto ad eventi calamitosi che hanno una rilevanza penale tema complicatissimo rispetto al quale io penso che nessuno seriamente possa essere in grado di dire le indagini si fanno così due punti A B C sarebbe uno stupido presuntuoso quindi io porto soltanto la mia esperienza io mi sono occupato di indagini a Frosinone con riferimento a tutti i crolli determinati da un' abbondantissima nevecata nel febbraio del 2012 e poi sempre a Frosinone con riferimento una sorta di alluvione che qualche anno dopo c'è stata e ha determinato anche lì purtroppo delle morti ma certamente non ho alcuna presunzione di dare insegnamenti di dire cose certe ma voglio invece stimolare la riflessione su alcuni temi e soprattutto far conoscere le difficoltà di questa tipologia di indagini difficoltà che nascono essenzialmente in primo luogo da un dato storico oggettivo non c'è un evento uguale all'altro questo sia sotto il profilo naturalistico che conseguentemente sotto il profilo giuridico una cosa sono per esemplificare gli eventi a produzione immediata un crollo di un edificio un naufragio un disastro ferroviario una cosa completamente diversa sono gli eventi a formazione progressiva e nell'ambito di questi una cosa sono gli eventi a formazione progressiva in qualche modo rapida può essere un'alluvione un'esondazione un sisma pensiamo agli eventi a formazione progressiva lenta come può essere un fenomeno di inquinamento di un ecosistema che si verifica nel corso anche di decenni quindi avere un approccio investigativo comune sarebbe sbagliato però a dare alcune indicazioni ma una prima cosa voglio chiarirla questo tipo di eventi determinano una maggiore complessità nelle investigazioni non solo i soli per la verità perché creano subito una fortissima suggestione nell'opinione pubblica e una fortissima attenzione mediatica quindi la prima cosa che un buon investigatore deve fare è non lasciarsi suggestionare dalle attenzioni inevitabili e giuste dell'opinione pubblica sul fenomeno né tanto meno dalle esigenze mediatiche di avere ogni giorno una nuova notizia da dare quindi non si deve far suggestionare dall'esigenza di trovare comunque subito il colpevole che sarebbe quanto di più errato si possa fare rispetto a temi di indagine così complessi come dicevo questi rischi non riguardano solo questa tipologia di eventi basta pensare a un omicidio che abbia un rilevante clamore nell'opinione pubblica rispetto al quale pure ci sono le stesse problematiche ma certamente rispetto a questa tipologia di eventi questi rischi di cui ho detto possono essere addirittura più perniciosi mi ha colpito moltissimo in occasione del disastro del ponte Morandi l'esigenza avvertita non dalla collettività ma da settori politici di trovare subito un colpevole che ha portato addirittura nei giorni immediatamente successivi alla produzione di quel disastro ad ipotizzare i presupposti per risolvere una convenzione con la società autostrade io non entro nel merito perché non ne so niente di quel tipo di eventi di responsabilità ma che dopo due tre giorni si potesse già dire ci sono i presupposti per risolvere una convenzione quindi ragionare giuridicamente su una situazione di questo tipo quindi su una risoluzione di una convenzione di questo tipo era a mio giudizio una conclusione che derivava appunto dall'esigenza di trovare subito un colpevole ribadisco non entro nel merito ovviamente non sono in grado di farlo di chi siano le responsabilità allora il primo punto su cui io ritengo l'investigatore si debba soffermare che è proprio quel punto che come dicevo prima crea la prima difficoltà è l'individuazione dell'evento rispetto al quale appuntare le indagini parlo di evento a questo punto sotto profilo giuridico il consigliere dovere ha parlato a lungo della colpa tema fondamentale questa tipologia di situazioni ma diciamo che sotto il profilo investigativo se vogliamo semplificare non si parte dalla colpa ma si parte ovviamente dall'evento e si fa un'attività o si prova a fare un'attività di accertamento a ritroso qual è l'evento di cui ci occupiamo e attenzione sotto il profilo giuridico l'evento non è il sisma no? o perlomeno non è il sisma in quanto tale anche se con riferimento al sisma possono profilarsi delle responsabilità in tema di mancata previsione è mancato allarme eccetera l'evento può essere il crollo può essere il disastro il ferroviario possono essere e sono comunque in ultima analisi le morti i singoli i singoli omicidi colposi si parte dall'evento che va quindi inquadrato ed è già una cosa che a volte può essere più semplice a volte è molto più complessa e si va al ritroso affrontando il tema a livello investigativo della causalità perché si è prodotto tutto questo e qui capite bene quanta difficoltà ci può stare e di solito c'è in una fase investigativa nelle quali le conoscenze sono limitate si formano progressivamente e spesso si formano in pendenza della gestione dell'emergenza le indagini iniziano quando magari l'evento calamitoso inteso come sisma o alluvione eccetera non è neanche finito dal rapporto di causalità si passa poi alla ricerca delle posizioni di garanzia cioè di coloro che erano tenuti a fare quel qualcosa che è stato omesso è stato fatto male quindi al comportamento alternativo duveroso erano tenuti e che avendo appunto invece operato in una situazione rispetto alla quale è profilabile un giudizio di colpa hanno determinato poi quella produzione dell'evento questo banalizzando ma per dire si va a ritroso se si va a ritroso la prima necessità è quindi di che evento noi dobbiamo occuparci e gli eventi possono essere molteplici più è ampio più è complesso l'evento calamitoso più è difficile sotto il profilo giuridico individuare quello che deve essere il punto di partenza delle indagini l'evento e cioè il reato allora in un caso come un grande sisma non voglio fare riferimento a fenomeni passati ma è chiaro che insomma il pensiero di ognuno di voi può correre agevolmente a situazioni che si sono verificate che sono state anche egregiamente definite nell'ambito del processo con sentenze anche irrevocabili una cosa è individuare l'evento relativo alla morte determinata dalla mancata tempestiva allerta della produzione di uno sciame sismico per esempio o dalla mancata tempestiva e corretta gestione dell'emergenza una cosa completamente diversa è partire dall'evento morte di persone per effetto del crollo di una costruzione e quindi forse il problema perché è crollata quella costruzione sì perché c'è stato un terremoto va bene ma quel terremoto è da scrivere all'istituto giuridico della forza maggiore della forza inarrestabile rispetto alla quale nulla c'era da fare vi di tsunami speriamo di non dovercene mai confrontare o ha avuto un effetto impattante perché quella casa era realizzata male cambia tutto no? sotto il profilo delle responsabilità e allora mettetevi un attimo nei panni del povero pubblico ministero una cosa il giudice che si vede all'esito di complesse e magari lunghe ma sfido chiunque a fare queste indagini in sei mesi indagini si vede portare il prodotto dell'attività investigativa e quindi lo valuta sulla base delle proprie cognizioni giuridiche delle proprie cognizioni sperenziali dell'equilibrio del buonsenso e della prospettazione delle diverse parti accusa difesa una cosa è il pubblico ministero che crea il procedimento quindi deve strutturare le indagini nella maniera migliore e quindi deve in corso d'opera rendersi conto di quali sono gli eventi di come vanno investigati al fine di arrivare a una prospettazione all'esito delle indagini che sia la più aderente possibile al reale evolversi dei fatti e quindi al loro effettivo disvalore giuridico prospettazione che comunque andrà sempre portata al vaglio del giudice per cui una cosa che mi preme sottolineare è che fenomeni fatti di assoluzione di imputati al dibattimento non necessariamente significano che le indagini sono state fatte male perché nel nostro sistema processuale è il dibattimento il luogo in cui nel contraddittorio delle parti si forma la prova le indagini si chiamano preliminari proprio perché valgono a individuare elementi che il pubblico ministero deve cercare sia a carico che in favore delle persone sottoposte alle indagini che possono poi all'esito delle indagini stesse orientare la scelta del pubblico ministero nel senso dell'esercizio dell'azione penale o al contrario nel senso della richiesta di archiviazione come dicono gli inglesi nel senso della dismissione del caso ma al dibattimento vengono portate non prove salvo alcuni casi particolari ma fonti di prova che si sviluppano in dibattimento quindi se è vero che indagini fatte male ci sono e quindi pregiudicano poi anche il dibattimento perché non sono lì emendabili è anche vero che la soluzione di persone in sede dibattimentale nel nostro ordinamento abbiamo addirittura tre gradi di giudizio non è di per sé un evento patologico ma è fisiologico anche se mi rendo conto questo può disorientare l'opinione pubblica come le disorientano casi di condanna in primo grado di un soggetto per omicidio assoluzione del soggetto in secondo grado pensiamo alla differenza tra prova indizio al bagaglio probatorio fondato da un insieme di indizi e forse ci rendiamo conto più agevolmente di come non sia purtroppo infrequente la possibilità che di quel bagaglio indiziario due giudici diano letture diverse la difficoltà delle indagini quindi muove dalla difficoltà di inquadrare l'evento nelle specie incriminatrici prosegue in quella ulteriore enorme difficoltà che alla luce dell'evento correttamente inquadrato e molto spesso l'evento si inquadra in maniera corretta durante le indagini non immediatamente quell'ulteriore tematica della individuazione delle cause e quindi della connessa individuazione delle posizioni di garanzia rispetto a eventi calamitosi che sono quelli che ci interessano noi abbiamo potenzialmente una pluralità di fonti di responsabilità davvero impressionante direi una pluralità che non si manifesta normalmente rispetto ad altre tipologie di reati quindi fermo restando la necessità di inquadrare l'evento possiamo trovarci di fronte a responsabilità pre-evento progettazione realizzazione errata di strutture a responsabilità riferite direttamente alla produzione dell'evento disastro ferroviario quindi manovre errate dei macchinisti manovre errate dei gestori della circolazione a responsabilità collegate all'evento in qualche modo e qui può entrare in gioco il tema della protezione civile e quindi poi i diverse tipologie di interventi previsione mancata previsione mancata prevenzione mancato preallarme mancato allarme mancata informazione ad eventi post-evento e quindi a responsabilità scusate no eventi post-evento per senza responsabilità post-evento quindi per esempio inadeguata gestione delle emergenze sotto il profilo tecnico quindi una complessità di temi e quindi di problematiche investigative che assolutamente rende impossibile codificare ad esempio dei protocolli di indagine rispetto a queste tipologie di responsabilità di eventi e quindi di responsabilità tenete presente poi che la protezione civile il sistema della protezione civile che già è di per sé un sistema pluriarticolato cioè articolato su diversi attori non è l'unico che viene in rilievo l'individuazione delle fonti normative di responsabilità in questi settori fa riferimento ovviamente non soltanto alle norme che regolano la protezione civile da ultimo il codice ma anche a settori normativi completamente diversi basti pensare alla estrema rilevanza che molto spesso in casi si fatti a tutta la normativa di cui al decreto legislativo 81 del 2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che come sapete non vale a proteggere soltanto i lavoratori ma anche tutti i soggetti che vengono legittimamente in contatto con i luoghi di lavoro o con ambiti nei quali si svolge attività lavorativa cercando di dare un altro paio di flash due o tre flash più concreti potrei parlare a lungo ma il tempo ovviamente deve essere limitato è ovvio che un primo rileventissimo fondamentale in questo tipo di investigazioni è la consulenza tecnica e qui abbiamo dei problemi enormi perché abbiamo la necessità di poter contare su dei consulenti esperti qualificati non vincolati a trovarli quando nel 2016 facemmo quel convegno sempre in tema di protezione civile al consiglio superiore della magistratura io dissi forse sarebbe il caso se possibile di istituire a priori un albo nazionale di consulenti diviso ovviamente sulla base delle diverse competenze una cosa è la competenza del geologo una cosa è la competenza del vulcanologo una competenza dell'ingegnere al quale i pubblici ministeri possano attingere nel momento in cui la cosa diventa rilevante ma è ovvio che il pubblico ministero fonda molto sull'attività del consulente non lo non si deve però lasciar guidare dal consulente questo è il punto non deve il quesito sostanzialmente non deve essere dimmi chi è il colpevole siamo fuori dalle regole procedurali il pubblico ministero deve guidare il consulente onde farsi aiutare nel raggiungere quella possibile chiarezza rispetto a tematiche giuridiche qual è l'evento qual è la colpa l'evento era prevedibile l'evento era evitabile qual era il comportamento alternativo doveroso messo adesso qui non mi voglio soffermare su questi temi che Salvatore sarebbe in grado di affrontare molto meglio di me ma voglio soltanto dire bisogna guidare il pubblico il pubblico il pubblico deve guidare il consulente non deve affidargli la consulenza ci vediamo fra due mesi portami il prodotto confezionato e ovviamente guidare il consulente è difficilissimo presuppone già tutto un bagaglio di cognizioni che spesso invece escono fuori proprio dalla consulenza altro tema non abbiamo polizia giudiziaria specializzata no? quindi che cosa chiediamo di solito alla polizia giudiziaria l'acquisizione della documentazione a più ampio raggio senza però correre il rischio dovremmo non correre il rischio di farci sommergere dalle carte ancora cerco di essere velocissimo mi preme un punto affrontare poi a carico di chi faccio le indagini punto delicatissimo che sposta anche sotto il profilo processuale la modalità di esperimento della consulenza che processualmente può essere fatta sia pure nella fase delle indagini e deve essere fatta in contraddittorio se abbiamo degli indagati le consulenze di questo tipo sono di solito almeno in parte irripetibili e quindi se c'è un indagato va fatta in contraddittorio altrimenti no chi devo indagare questo è un tema enorme che chiaramente si lega a tutte le tematiche che ho già detto qual è l'evento effettivo ricostruisco il rapporto di causalità quali sono le possibili posizioni di garanzia che vengono in gioco e badate è difficilissimo all'inizio farsi un quadro chiaro quindi il fatto che ci siano indagini su eventi di questo genere che per un lungo tempo proseguono a modello 44 cioè a carico di ignoti non è patologia l'alternativa qual è su questo sono sicuro di stimolare il vostro interesse l'alternativa è quella che io non apprezzo del cosiddetto atto dovuto iscrivo a 360 gradi 2.000 persone va bene quindi tutti quelli che potenzialmente hanno avuto qualcosa a che fare con questo tipo di evento ma ancora fermo restando che anche qui quella difficoltà di inquadramento dell'evento viene in gioco no? va bene chi scrivo chi è il costruttore chi è il realizzatore della casa ma è corretta un'impostazione di questo tipo? alcuni dicono così metto in condizione l'indagato di difendersi nelle indagini però magari dico io professionalmente lo uccido perché è inutile ce lo diciamo noi operatori del diritto ma essere sottoposto a indagini non significa ed è vero avere un carico pendente né tantomeno un precedente quindi quando vai a fare il certificato dei carichi pendenti non ti esce fuori che sei sottoposto ad indagine il carico pendente si matura soltanto al momento dell'esercizio dell'azione penale ma essere sottoposti a indagine per fatti così tragici a mio giudizio uccide una persona quindi si però così ha la possibilità di difendersi nel processo certo il tema è delicato però la mia opinione è quella per cui l'iscrizione degli indagati va fatta con estrema cautela sulla base di regole sembra banale dirlo ma la regola qual è quando il pubblico ministero ha degli elementi che creano non già che riflettono non già situazioni di sospetto a carico di una persona ma qualche elemento concreto concreto che possa essere sintomo di una potenziale responsabilità deve iscrivere se no no va bene ok ultime due cose è importante una collaborazione con le autorità amministrative che conducono inchieste amministrative parallele all'inchiesta giudiziaria a mio giudizio si deve collaborare con un scambio di atti non si gioca a carte scoperte in indagini di questo tipo almeno fino al punto in cui non emergono condotte dolose di veri e propri delinquenti vedi falsificazione di attestazioni falsificazione di certificazioni pregresse rispetto all'evento allora lì il livello delinquenziale è più alto non parliamo più di colpa e allora magari una segretezza nelle investigazioni serve per il resto di fronte a situazioni di questo genere di fronte a potenziali giudizi di colpa secondo me fatti salve ovviamente alcune scelte investigative che non devono essere comunicate in anticipo lo scambio di informazioni con l'autorità amministrativa è importante sequestri importanti limitati a quello che effettivamente serve non devono intralciare le attività di emergenza e devono essere contenuti nel tempo necessario effettivamente necessario perché la pubblica accusa possa acquisire dal sequestro degli elementi investigativi e probatori effettivamente utili ultimissima cosa le indagini non devono creare allarmismo devono essere oggettive non devono creare allarmismo facile a dirsi molto meno a farsi sindaco che temendo di poter essere poi incolpato di qualcosa alla prima precipitazione nevosa chiude le scuole per un mese non è un buon modo di gestire le situazioni di potenziale rischio perlomeno la procura non concorra ad alimentare questo tipo di risultati poi che le indagini facciano paura è ovvio però una cosa è condurla in maniera obiettiva e rigorosa una cosa è creare allarmismi soprattutto nelle comunicazioni che il capo dell'ufficio deve dare perché su fenomeni di questo genere è giusto che l'opinione pubblica rispetto alla quale il magistrato ha una responsabilità di tipo sociale venga informata nei limiti in cui ciò non pregiudica le indagini ma senza creazioni di allarmismi se non quando invece va data un'informazione circa rischi effettivi che le indagini hanno disvelato e rispetto ai quali l'azione delle autorità amministrative è ancora carente. Grazie scusate se ho abusato. Grazie Dottor De Falco per il suo intervento devo dire che non ci ha tranquillizzato ecco da questo punto di vista anzi ci ha indicato bene tutta una serie di anche come il vostro mondo si deve muovere rispetto a un evento giuridico una suggestione che mi ha colpito che forse è un che ho trovato anche nella precedente relazione il tema della suggestione il tema della suggestione che può avere un giudice col senno di poi il tema della suggestione nell'opinione pubblica perché questo in qualche modo è un elemento importante soprattutto sul tema della prevedibilità dell'evento una sola battuta prima poi di passare la parola alla difesa così almeno ci rincuoriamo un po' sempre il caso questo questo recente della della 6 non erano neanche passate 12 ore no la stampa che in qualche modo voleva voleva sapere voleva avere in qualche modo delle risposte e la prima domanda che mi ha fatto che mi ha fatto il giornalista subito immediatamente non voleva sapere altro ma l'evento secondo lei era prevedibile? e ho cominciato a dare una risposta complessa perché l'evento era un evento complesso spiegando rispetto a quello che avevamo visto che secondo noi l'evento per quello che avevamo visto non poteva essere considerato prevedibile smette l'intervista mi dice guardi questa non la trasmettiamo come la trasmettiamo? è poco interessante allora Davide Amato allora Davide Amato avvocato assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università della Cattolica ha lui il compito di ripercorrere un po' di casistica e anche quello di rincuorarci un po' vediamo un compito che ci stiamo rimpallando fino ad ora vediamo se riusciamo ad interrompere la la catena vorrei quindi ricollegarmi a quanto è stato detto prima in parte riprendere il contenuto del libro e fare una sorta di appendice di aggiornamento il compito che mi propongo è di partire dalla sentenza Sarno molti di voi ne avranno già sentito parlare in giurisprudenza per noi un vero e proprio leading case in materia di responsabilità degli operatori di protezione civile e verificare se questa sentenza che risale al 2010 oggi sia ancora attuale o ci siano dei timidi segnali di apertura e di superamento rispetto a questi principi per farlo ripercorro brevemente la vicenda Sarno una vicenda sulla quale ci siamo già soffermati in altre occasioni cercherò di essere quindi estremamente sintetico i fatti sono noti credo quasi a tutti il 5 maggio 1998 siamo appunto in Campania c'è una situazione di maltempo abbastanza prolungato a un certo punto dal monte Pizzo d'Alvani incominciano a staccarsi delle colate detritiche queste colate detritiche si intensificano via via nel corso della giornata fin tanto che la sera provocano il crollo di diversi edifici il crollo di un plesso ospedaliero e 137 vittime allora vediamo che cosa succede inizia un procedimento penale contro il sindaco del comune di Sarno a cui viene attribuito una serie di condotte negligenti in primo luogo lo si accusa di aver sottovalutato la situazione era la responsabile della protezione civile comunale dell'epoca il sistema normativo era un po' diverso ma a grandi linee comunque il sindaco va al ruolo principale girò per la città e non riscontrò fenomeni particolarmente inquietanti fenomeni particolarmente severi tant'è che nel corso del pomeriggio rassicurava la popolazione e la prefettura sulla situazione in atto fino alla sera intorno alle 20.47 quando mandava un fax alla prefettura dal contenuto molto molto allarmistico e poi nella serata abbiamo visto che si verificavano i crolli viene quindi accusato di aver omesso di avvisare tempestivamente la popolazione di disporre l'evacuazione delle abitazioni a rischio di convocare di insediare il COC e poi di dare un idoneo allarme alla prefettura così di fatto interrompendo il sistema di gestione di soccorso esamino brevemente le due sentenze di merito che sono due sentenze conformi e assolvono il sindaco assolvono il sindaco per due argomentazioni principali in primo luogo secondo il tribunale e la corte d'appello dal momento in cui c'era stato quel fax rivolto alla prefettura alle 20 e 47 la gestione dell'evento era passata a livello superiore non era più un evento comunale la posizione di garanzia era esclusivamente in capo al prefetto e quindi tutto quello che è accaduto dopo le 20 e 47 non può essere attribuito alla condotta del sindaco l'altro corno su cui si fonda la sentenza di assoluzione attiene alla prevedibilità all'epoca fenomeni così severi di colate detritiche non erano conosciuti non se ne erano mai verificati in italia non certo a sarno e anche la comunità scientifica non aveva una vera e propria conoscenza di questi fenomeni e quindi dissero al tribunale della corte d'appello se perfino la comunità scientifica non conosceva questo tipo di fenomeni non possiamo certo darne la responsabilità al sindaco che ha un diverso tipo di conoscenze e quindi l'evento è stato ritenuto imprevedibile da qui la soluzione la sentenza di cassazione la sentenza del 3 maggio 2010 numero 16.761 di fatto smentisce integralmente le sentenze precedenti le sentenze di merito sotto entrambi i poli su cui si erano concentrati la prima parte è quella ricostruttiva delle posizioni di garanzia secondo me è condivisibile ed è stata poi ritenuta valida anche nelle sentenze che si sono occupate di protezione civile negli anni a venire e cosa dice in estrema sintesi che il sistema di protezione civile è strutturato in un modo tale per cui anche quando l'evento sia grave e non sia più di competenza comunale quindi dall'evento di tipo A passiamo agli eventi di tipo B o C è vero che subentra il prefetto ma non c'è una successione di garanti il sindaco non è liberato non può andarsene a casa e spegnere il telefono entrambi i soggetti devono cooperare nella gestione dell'evento su questo direi nulla a questio i problemi arrivano quando si tratta di prevedibilità dell'evento qua il ribaltamento è veramente serio vi leggo il principio perché è un principio che poi noi ritroviamo più avanti la lettura è forse il modo migliore per farvi capire la portata di quanto è stato affermato dalla Cassazione il giudizio di prevedibilità non va compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato ma quanto può avvenire in futuro nel senso che involge un giudizio di rappresentabilità di possibili ulteriori e più gravi eventi dannosi e ancora il giudizio di prevedibilità andava compiuto tenendo certamente conto dell'esperienza del passato ma senza ignorare l'esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare bisogna prefigurarsi secondo la Cassazione la più distruttiva ipotesi questa è una sentenza che è stata fin da subito ampiamente severamente criticata in dottrina questo tipo di principio a chi studia il diritto penale fa venire in mente immediatamente il principio di precauzione nella sua versione rollsiana del Maximin tale per cui a fronte di una situazione di incertezza noi dobbiamo agire tenendo presente il peggiore scenario possibile però il diritto penale il settore della colpa non è il settore della precauzione la precauzione non entra nella valutazione della colpa è ancora molto controverso se e quale spazio si possa dare il principio di precauzione in diritto penale diciamo che si può dare per assunto e consolidato che il principio di precauzione possa orientare le scelte del legislatore per esempio a fronte di una situazione di incertezza possiamo determinare dei limiti soglia in materia ambientale o di sicurezza alimentare non lo sappiamo poniamo dei limiti se quei limiti vengono superati allora rispondiamo con una serie di sanzioni che sono contravenzionali piuttosto blande ma anche in questo caso il principio di precauzione è criticato cioè una violazione di quello che è definito il principio il principio di offensività qua siamo in un settore altro qua siamo nel settore della colpa se ragionassimo così dovremmo sempre prevedere il peggio l'intento della Cassazione probabilmente all'epoca era quello di fissare un livello di sicurezza alto cioè di tutelare al massimo l'incolumità dei cittadini però anche in questo caso la sentenza non convince in realtà questo non è un criterio che ci rassicuri il principio che viene dettato in realtà è un principio disfunzionale quando non pericoloso uno studio fatto qualche anno fa con i colleghi di fondazione CIMA aveva provato ad applicare questo principio alla previsione di eventi avversi all'epoca avevamo calcolato una media di circa tre allerte rosse per anno per ciascuna regione se noi applicassimo questo principio qualsiasi tipo di allerta giallo arancione dovrebbe diventare un'allerta rossa perché se io devo prefigurarmi il peggio allora nel dubbio io do la rossa e ignoro i livelli inferiori ebbene dalle tre allerte all'anno passeremo ad una media di 100 allerte all'anno capite benissimo come un livello di questo tipo di allertamento sia insostenibile per qualsiasi comunità purtroppo questa sentenza ha goduto e godo di buona salute in giurisprudenza io ho provato nei giorni scorsi a cercare le sentenze esclusivamente afferenti al settore della protezione civile che hanno ripreso questo principio cosa ho trovato ho trovato la sentenza di merito del tribunale dell'Aquila del 2012 ho trovato una cassazione del 2012 riguardo il genio civile di Messina quando un letto di un fiume che era sempre in secca veniva usata come strada ci fu un alluvione delle persone che l'avevano usato per percorrere quelle strade morirono in questa sentenza si cita il precedente Sarno c'è una sentenza del tribunale di Latina relativa ad una frana a Ventotene c'è una sentenza del tribunale di Lecce del 2014 per allagamento di un sottopasso e così via anche nelle sentenze che vado ad affrontare che riguardano le alluvioni di Messina e di Genova Messina e Scaletta Zanclea del 2009 e di Genova del 2011 viene citato il principio sarno però mi soffermo un attimo su questi due su queste due vicende storiche che si sono concluse con un giudizio di Cassazione nel corso di quest'anno proprio per vedere se la Cassazione all'atto finale di queste vicende ha ripensato questi principi e li ha confermati la prima vicenda come vi anticipato è relativa ad un fenomeno nuovamente franoso di colate detritiche verificate sia nella parte meridionale del comune di Messina e nel comune di Scaletta Zanclea siamo al 1 ottobre 2009 dopo una serie di giorni di precipitazioni non particolarmente intense ma non comunque trascurabili si verificano anche in questo caso una serie di colate detritiche che provocano il crollo di edifici e 37 vittime l'allertamento dell'epoca era leggermente diverso da quello attuale la protezione civile regionale aveva diramato uno stato di preallerta che corrispondeva al secondo livello su quattro mentre la protezione civile nazionale aveva segnalato per il Lazio e la Sicilia precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale anche di forte intensità il peggio però era previsto per il giorno 2 ottobre per i giorni successivi il comune di Messina aveva da poco adottato un piano di protezione civile mentre quello di Scaletta Zanclaeva un piano alquanto vetusto che risaliva ai primi anni 90 non era nemmeno un vero e proprio piano di protezione civile occorre anche tenere presente che nel 2007 in quelle stesse località c'era stato un fenomeno analogo per fortuna però all'epoca nel 2007 non era crollato nessun edificio non c'erano state vittime rispetto a quanto previsto quanto osservato fu un fenomeno più localizzato su una zona molto particolare del territorio messinese con delle precipitazioni più intense rispetto a quanto previsto a seguito dei fatti viene naturalmente instaurato un procedimento penale l'accusa io mi concentro esclusivamente sulla posizione dei due sindaci invece il procedimento era un pochino più complicato l'accusa muove su due fronti le omissioni in tempo di pace cioè quanto non è stato fatto fra il 2007 che era una visaglia pericolosa di cui tenere conto e quanto avvenuto nel 2009 quindi quanto omesso in tempo di pace e quanto omesso invece nella gestione dell'emergenza e così viene contestata al sindaco di Scaletta Zancrea l'omessa ad ozione del piano di protezione civile e l'omessa messa in sicurezza del territorio al sindaco di Messina viene contestato pur avendo grazie al PAI ed altri documenti locali di analisi del territorio pur avendo evidenza di alcune situazioni di rischio di non aver adottato nessuna cautela ad entrambi i sindaci viene poi contestato una gestione negligente della situazione dell'emergenza in atto pensate che il sindaco di Scaletta Zancrea era anche chirurgo era in policlinico a Messina ad operare non era nemmeno in comune quando si verificarono i fatti la sentenza di primo grado il tribunale di Messina condanna entrambi gli imputati si dice che l'evento era prevedibile in parte in virtù dei messaggi di allerta promananti dalla protezione civile in parte in virtù di quei precedenti del 2007 che erano un precedente inquietante lo definisce il tribunale si dice che la condotta fosse evitabile perché essendosi verificato l'evento in una porzione piuttosto limitata di territorio con poche persone interessate l'evacuazione fosse possibile ed esigibile perché nonostante ci fossero problemi alla circolazione con alcune strade chiusa a causa delle frane comunque ritiene il tribunale in modo del tutto apodittico che l'evacuazione fosse un procedimento attuabile per questo motivo entrambi gli imputati sono stati condannati ma condannati esclusivamente per le condotte tenute nella fase di gestione dell'emergenza il tribunale nulla dice invece sulla parte a mio avviso più interessante sia le omissioni fra il 2007 e il 2009 la sentenza d'appello ribalta la decisione di primo grado e assolve entrambi gli imputati assolve gli imputati essenzialmente perché si dice che non erano stati informati per tempo di quanto si sarebbe verificato c'è un attacco piuttosto frontale all'allertamento di protezione civile si dice che i messaggi di allerta sono comunicazioni del tutto generiche che non davano alcuna informazione realistica di quanto si poteva poi verificare inoltre c'era da tenere presente che il sistema di allertamento dell'epoca non era coordinato con il sistema di emergenza un adebito che non poteva certamente essere rivolto ai sindaci e quindi in buona sostanza la condotta era inesigibile cosa si dice giuridicamente parlando la sentenza di assoluzione si fonda su una impossibilità per gli imputati di rendersi conto di quanto sarebbe accaduto la dottrina di lingua tedesca parla di anlas noi parliamo di occasione è mancata i due primi cittadini l'occasione di rendersi conto che quelle piogge avrebbero provocato quelle colate detritiche che avrebbero provocato quei crolli da qui la sentenza di assoluzione anche in questo caso nulla si dice sulle condotte fra il 2007 e il 2009 la sentenza di cassazione una sentenza di aprile di quest'anno è una sentenza che purtroppo per noi ha dei limiti e questo ce la rende un pochino meno interessante ha dei limiti perché dopo la sentenza di assoluzione in appello il reato si è prescritto quindi la cassazione si è trovata a giudicare una vicenda per cui il reato era ormai estinto per il decorso del termine di prescrizione e c'era una preclusione determinata dal giudicato la procura non aveva impugnato adeguatamente la sentenza di primo grado e quindi la corte d'appello non si era poi pronunciata sulle condotte antecedenti il 2009 la cassazione non può più andare a sindacare le condotte dei sindaci in tempo di pace c'è però un aspetto che di cui dobbiamo tenere conto vi dico cosa decida la cassazione in tema di prevedibilità ve la leggo forse sono parole che avete già sentito il giudizio di prevedibilità non va compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato ma quanto può avvenire in futuro bisogna tenere conto di possibili ulteriori e più gravi eventi dannosi non vado avanti è un mero copia in colla della sentenza del 2010 la sentenza di cassazione di aprile di quest'anno sotto questo punto di vista non ci rassicura minimamente ci sono qui seduti al tavolo dei relatori più autorevoli di me un consigliere di cassazione che ci potrà spiegare anche quali sono le disfunzioni organizzative che talvolta portano a fare sentenze di questo tipo però purtroppo per noi dobbiamo dire che non sono sentenze particolarmente utili abbiamo però comunque degli insegnamenti da trarre da questa vicenda ci ritornerò poi più avanti vediamo che all'epoca il sistema non era ancora pronto a gestire determinati eventi per esempio il rischio temporale quello che si è verificato è stato un temporale autorigenerante all'epoca non c'era un modello un avviso apposito per il rischio temporale e quindi c'erano anche delle difficoltà relative all'allertamento a me rimane il dubbio però questa vicenda che pur sia conclusa con una soluzione di cosa sarebbe successo se fossimo andati a sindacare le condotte tenute fra il 2007 e il 2009 secondo me il vero baco di questa vicenda sta in quel lasso temporale su cui però le sentenze nulla dicono vediamo invece all'ultima vicenda che è quella forse un pochino più interessante per noi la vicenda relativa all'alluvione di Genova del 4 novembre 2011 era un contesto particolarmente complicato vedendo la Liguria di oggi forse la situazione non è cambiata molto ma all'epoca un anno prima c'era stato l'alluvione che aveva colpito Sestri Ponente dieci giorni prima c'era stato un forte evento che aveva interessato la Spezia e devastato le cinque terre si prevedeva un nuovo evento particolarmente severo tanto se è vero che già il 2 di novembre del 2011 l'ARPA Ligure va diramato un messaggio di allerta rossa per i giorni 3, 4 e 5 perché vi ho parlato degli eventi antecedenti perché questo messaggio di allerta rossa per i giorni 3, 4 e 5 a data luni era stato visto come un eccesso di cautela una sorta di protezione civile difensiva avete sbagliato sul 2010 non avete intercettato l'evento della Spezia delle Cinque Terre ora c'è un nuovo evento siete preoccupati diramato un messaggio di allerta massima che dura 3 giorni 72 ore c'erano state delle polemiche preventive il comune di Genova membro dell'evento del 2010 aveva adottato un piano di protezione civile molto dettagliato per il quartiere di Sestri Ponente mentre il piano di protezione civile per il resto del comune era un piano molto più generico il livello comunale il sindaco assessore e il COC non avevano adottato nessuna particolare cautela con riferimento a questa allerta non c'erano state chiusure di scuole non c'erano state chiusure di strade non c'era stato nessun nessuna cautela eccezionale peraltro sfortuna vuole c'era EuroCities un evento molto importante per il comune di Genova il sindaco era anche impegnato in questo altro evento quello che si verifica poi è una pioggia estremamente intensa e concentrata che si concentra sulla mattina i rii minori vanno in crisi in particolare il rio Ferreggiano esonda poco prima dell'una è il momento peggiore perché è il momento in cui si vanno a prendere i bambini a scuola il rio Ferreggiano esonda provocando la morte di quattro donne e due ragazzi che o entravano o uscivano da scuola furono investite dalle acque ed entrarono nella tromba delle scale andando in un piano sotterraneo e morirono per allagamento vengono rinviati a giudizio il sindaco l'assessore provinciale alla protezione civile e tutti i membri del COC con l'accusa pur a fronte di un evento prevedibile e previsto in virtù dell'allerta 2 che era in essere di aver omesso di disporre la chiusura delle scuole di aver disposto la chiusura delle strade e di non aver fatto sgomberare le auto e i veicoli presenti in tutte le zone a rischio vengono accusati di non aver tempestivamente informato i dirigenti scolastici la protezione civile municipale e tutta la popolazione sulla situazione in atto di aver omesso qualsiasi iniziativa idonea a gestire la situazione io me lo ricordo era il 4 di novembre all'epoca frequentavo la scuola di specializzazione all'università di Genova nessuno di noi sapeva cosa stesse succedendo ma nessuno di noi nemmeno all'epoca sapeva esattamente cosa fosse un messaggio di allerta 2 c'erano alcuni colleghi che venivano dal Piemonte c'era addirittura un altro sistema di allertamento non avevamo idea di quanto stesse accadendo analizzo velocemente le sentenze di merito perché sono una doppia conforme sono interessanti fino a un certo punto condanna di tutti gli imputati si faleva appunto sul fatto che l'evento fosse prevedibile previsto vengono ricitati i principi sarno quando si tratta di esaminare la colpa si accusano tutti i soggetti interessati di aver salutato il fenomeno anteponendo ragioni di carattere pubblico di carattere politico chiedo scusa si voleva evitare il classico mugugno ligure e sono state anteposte ragioni politiche a esigenze invece di tutela della collettività qualche piccolo passaggio interessante le diciamo omissioni le eventuali criticità afferenti alla prevenzione di tipo strutturale non esonerano coloro che sono onerati della prevenzione di tipo non strutturale Genova ad una città critica ci sono delle criticità risalenti la protezione civile non può fare leva su questa criticità per essere esonerata al contempo le responsabilità dei dirigenti scolastici che si erano comportati in modo il tutto irrazionale pensate che in alcuni casi avevano chiamato i genitori nel corso dell'evento dicendo venite a prendervi figli volevano scaricarsi il fardello questa è una possibile condotta penalmente rilevante sarà la magistratura poi a determinarlo ma la responsabilità dei dirigenti scolastici può concorrere ma anche in questo caso non esclude la responsabilità degli operatori di protezione civile e infine una nota forse un pochino più interessante il piano di emergenza di Genova prevedeva una sorta di delega delle competenze integrali dal sindaco ebbene questo non si può fare se la legge prevede che sia il sindaco ad avere determinate competenze non possono essere delegate tramite un piano comunale ad un altro organo al limite saranno tutti corresponsabili e questo lo vediamo meglio dopo la sentenza di Cassazione ha confermato la responsabilità di tutti gli imputati rinviando solo per la determinazione delle pene cosa dice la Cassazione? nulla questo sulla fase di previsione che ha funzionato ha funzionato bene quello che ha fallito è stata la fase di prevenzione quello che mi interessa affrontare oggi è quello che la Cassazione dice sulle modalità di gestione di questo tipo di eventi la scelta di non chiudere le scuole e strade per la Cassazione è stata del tutto legittima non c'era nessuna necessità di chiudere una città per 72 ore non era necessario una cosa che forse ho messo l'allerta 2 non era solo sul comune di Genova riguardava praticamente tutta la Liguria e questo è importante non si sapeva dove questo evento si sarebbe verificato quindi quello che dice la Cassazione va bene non chiudiamo tutto non si può chiudere tutto per 72 ore concentriamoci solo sulle zone a rischio ma vediamo come farlo allora è detto una sorta di prontuario vediamo prima alcuni aspetti giuridici poi vediamo come gestire l'evento sarò brevissimo una prima nota che mi ricollega quanto detto precedentemente riguarda il tema delle posizioni di garanzia sappiamo che è estremamente complicato individuare i garanti la situazione è ancora più complicata perché il nostro sistema è un sistema che cerca di in qualche modo espandere le responsabilità in base ai comportamenti se una responsabilità ex legge gravava solo sul sindaco e sull'assessore ci sono due norme del codice penale di cui occorre tenere conto l'articolo 40,2 secondo cui non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo ma l'articolo 113 che disciplina la cooperazione colposa altri non è che un concorso di persone nel reato nelle ipotesi di colpa ebbene anche soggetti che non sono investiti normalmente di una posizione di garanzia per legge possono tuttavia diventare garante laddove cooperino con un soggetto che questa posizione rivesta quando quando questo derivi da una gestione collettiva dell'evento che dipenda o da un obbligo di legge come visto o da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o anche su base volontaria quando ci sia una contingenza oggettivamente definita senza incertezze e di cui tutti i soggetti siano consapevoli quindi qualora si partecipi attivamente a gestire un evento poi si risponde di quanto può accadere questo principio era stato già esaminato in modo molto più analitico nella sentenza grandi rischi laddove si era esaminata la posizione della commissione grandi rischi un altro tema interessante è che siccome il nostro ordinamento un ordinamento sostanzialistico guarda quanto è accaduto non a quanto succede astrattamente non si risponde poi solo su base gerarchica ma si guarda il contributo causale che è stato dato da ciascun soggetto le modalità di gestione dell'evento è forse la parte che abbiamo detto più interessante chiamerò il metodo Augustus anche se un metodo superato ma forse rende più facile capire di cosa stiamo parlando il metodo di risposta della protezione civile non conosce risposte automatiche in presenza di determinati presupposti se c'è un'allerta rossa non è obbligatorio chiudere tutto bisogna però adattarsi in tempo reale a quelle che sono le esigenze del caso concreto un aspetto molto interessante della sentenza è quello in cui dice che anche la condotta alternativa lecita un costo sociale e occorre operare una valutazione costi benefici tra le possibili scelte sul campo astrattamente sono lecite sia la scelta cautelativa e difensiva di cui è la sentenza Sarno mi prevedo mi prefiguro l'evento peggiore nel dubbio chiudo tutto cerco di tutelare l'incolumità ce la faccio o non ce la faccio un tema aperto secondo me non è questo il sistema ma si può agire così secondo la sentenza però questo innesca una spirale di protezione civile difensiva che non ci porta da nessuna parte e questa sentenza sdogana un metodo alternativo è bella anche la presa di posizione espressa sulla sentenza Sarno non è una demolizione ben intesa una rilettura vi cito giusto due righe della sentenza Vincenzi il principio affermato per i fatti di Sarno secondo cui occorre prevedere che i fenomeni ricorrenti e già realizzatesi in passati possano avere conseguenze anche peggiori rispetto a quelle già viste va riconfermato ma va ricondotto a canoni di ragionevole prevedibilità e probabilità exante io vorrei calcare la mano su questo canoni di ragionevoli prevedibilità e probabilità exante il giudizio di prevedibilità in buona sostanza deve valutare se possa essere esclusa in termini di ragionevole prevedibilità la possibilità che l'evento in esame possa avere dimensioni e caratteristiche più gravi ben inteso che può sembrare un'apertura tenue non possiamo aspettarci uno sdoganamento di comportamenti sciatti o negligenti però mi sembra un'apertura importante sulla quale dobbiamo lavorare la valutazione sulla prevedibilità va fatta caso per caso e bisogna prontare un sistema pronto a reagire alle emergenze la parte secondo me migliore sulla quale mi sto concentrando è quella che detta che cosa fare spesso spesso critichiamo le sentenze perché non dicono che cosa si doveva fare in questo caso la Cassazione ci prova e dice non occorre appunto operare indiscriminate chiusure preventive ma dotarsi di un meccanismo capace di reagire con efficienza e tempestività e bisogna soprattutto informare gli altri soggetti interessati responsabili della polizia locale dirigenti scolastici responsabili di stabilimenti imprese e attività economiche delle scelte adottate se decido di non chiudere preventivamente ma di reagire laddove quando si verifica l'evento tutti devono essere pronti devono essere allerta qualora questi soggetti non siano informati i loro errori rimbalzano su di me perché non li ho informati adeguatamente e quindi conclusioni cerco di darvi qualche spiraglio di cauto ottimismo i fatti che ho cercato di esaminare nella mia relazione mi sembra che ci dimostrino delle evoluzioni evoluzioni sia nel sistema di protezione civile sia nella giurisprudenza abbiamo visto un sistema che evolve che impara dai propri errori abbiamo visto che c'era un disallineamento nel caso di Messina fra l'allertamento è l'emergenza questo disallineamento è stato colmato abbiamo visto che in passato non c'era un'allerta specifica sui rischi temporali ora c'è abbiamo visto l'allerta 2 che era difficile da comprendere per i profani ora ci sono i codici colori che sono intuitivi ma vediamo anche una giurisprudenza che cautamente però evolve con segnali ancora un po' contrastanti se Messina da un lato conferma Sarno Genova mi sembra che dia delle aperture di cui dovremo tenere conto come comportarsi quindi in caso di eventi avversi rimangono i due poli modello Sarno è il più sicuro per l'operatore ma è il più disfunzionale per il sistema modello Genova bilanciamento costi benefici a quali condizioni credo che sia la sfida del futuro il modello Genova è quello verso il quale a mio avviso dobbiamo tendere un modello che ha dei costi quindi se decidiamo di non chiudere tutto preventivamente ma di rispondere all'evento laddove quando si verifica ci vuole un sistema di previsione efficace ci vuole un sistema di monitoraggio efficace ci vuole un sistema di protezione civile che sia pronto ad agire laddove l'evento si verifica ci vogliono risorse ci vogliono persone competenti ma non basta la protezione civile a mio avviso ci vuole un coinvolgimento più largo di tutte le persone che siano interessate nella gestione di questi tipi di eventi e quindi istituzioni scolastici dattori di lavoro e non ultima la collettività secondo me i piani di emergenza comunali i piani comunali vanno fatti d'intesa con la popolazione coinvolta se decidiamo di coinvolgere la popolazione nella gestione delle emergenze decidiamo assieme come rispondere tutti saranno più pronti ci saranno meno recriminazioni dopo che l'evento si è verificato ci sarà una determinazione di livello accettabile di rischio condiviso è difficile ma secondo me è questa la strada da prendere grazie grazie davide per l'escursus solo una nota prima di dare la parola all'ultimo relatore è vero oggi il sistema di allertamento ha introdotto anche i temporali tra quei fenomeni per cui dare l'allertamento ciò non toglie che rimane un fenomeno tra i più difficili da da prevedere adesso non vorrei che con il fatto di aver introdotto l'allertamento dessimo idea che le nostre capacità di prevedere quel tipo di fenomeno su quale ancora la ricerca molto deve dire fossimo fossimo capaci a farlo Marco Altamura Marco Altamura avvocato direttore in cima per quanto riguarda il programma sulla responsabilità giuridica in protezione civile chiedo di fare un po' il punto della situazione cioè di provare traendo spunti da altri settori ad offrire un po' a tutti noi una chiave di lettura sulle responsabilità che abbiamo in chiave di protezione civile sì ma prima voglio lasciare la parola consiglio di dovere che magari si deve allontanare per una replica Davide Amato sì no sono stato raggiunto dall'ufficio sono stato raggiunto dall'ufficio quindi è possibile che mi debba allontanare più presto della chiusura dei lavori ci tenevo però a diciamo a cogliere la lo stimolo offertomi dal dottore Amato io non sono a conoscenza di alcuna disfunzione organizzativa sottesa alla sentenza Messina e segnalo piuttosto ma questo in realtà l'ha detto già lei che il problema della diciamo della connessione tra la responsabilità per colpa e la precauzione è un problema che ha superato la fase dell'on off anche in dottrina dopo una stagione nella quale il principio di precauzione era unanimamente respinto dalla dottrina sappiamo che con gli scritti di Carlo Rugariva e non soltanto di Carlo Rugariva c'è un'apertura che problematizza un tema probabilmente confrontandosi con un dato reale c'è precauzione e precauzione cioè ci sono delle regole che sono precauzionali e tuttavia possono essere riconosciute come cautelari quindi io annetto a questo retroterra culturale la posizione che in quella sentenza è stata espressa segnalo anche che fra il 2010 e il 2019 non mi risultano delle prese di posizione come dire argomentate a favore del principio scandito dalla sentenza Sarno anzi in tutta una serie di sentenze si è stati molto accorti a ribattere che il principio di precauzione non appartiene al mondo cautelare si tratta di due cose diverse e mi pare che da questo punto di vista io mi posso permettere di essere meno cauto di lei nella valutazione sulla sentenza per Genova che la sentenza per Genova rappresenta invece una riconduzione di quel principio nella nostra tradizione giurisprudenziale alla sua esatta collocazione cioè un principio che va necessariamente coordinato con tutto ciò che la giurisprudenza della nostra sezione ha scandito dopo con una grande attenzione alla prevedibilità che non deve essere sconnessa dai dati disponibili e quindi da questo punto di vista non voglio dire di una prevedibilità in concreto ma da parte dell'operatore perché si scadrebbe in un soggettivismo che è la negazione della regola cautelare ma torno a quello che dicevo prima quella nozione di prevedibilità o meglio a quel livello di prevedibilità che ci può dare solo l'impiego della scienza quindi la prevedibilità che la scienza ci dà rispetto alle coordinate offerte dal caso concreto ho lasciato ho lasciato volentieri la parola al consigliere perché è interessante questo confronto allora il mio sarà un intervento in parte giuridico e in parte una suggestione si tratta come ha detto Luca Ferraris di capire quali sono le responsabilità individuali cioè vedere se c'è un perimetro di responsabilità individuale chiaro per coloro che in protezione civile si debbono occupare di informazione di comunicazione del rischio e per essere più sintetico non intendo scomodare assolutamente la nostra costituzione i trattati internazionali il trattato addirittura dell'Unione Europea dove è chiarissimo che ormai il diritto del cittadino a essere informati dei rischi che riguardano la propria incolumità è un vero e proprio diritto soggettivo un corollario sostanzialmente del diritto alla sicurezza personale e alla incolumità e questo rango del diritto ad essere informati è ormai un rango così importante che fa sì che ci siano obblighi positivi cioè quando parliamo di obblighi positivi parliamo di obblighi di fare dello Stato cioè quindi lo Stato deve fare qualcosa lo Stato deve controllare e addirittura ovviamente c'è tutela giurisdizionale per quando queste informazioni vengono a mancare e a conferma di questa pervasività del diritto all'informazione noi non lo vediamo soltanto in protezione civile anzi lo troviamo in tantissimi settori è veramente pervasivo settore ambientale ambiente di lavoro rischio industriale disciplina consumistica sicurezza pubblica informazione alimentare sanitaria e dappertutto in tutti questi i settori c'è un obbligo da parte di qualcuno di informare ed un diritto di essere informati e ovviamente non fa eccezione l'ambito dell'operazione civile dove addirittura mi sento di dire che questo diritto essere informati e il corrispondente obbligo di informare pregna l'intera legislazione quale legislazione? beh ovviamente il codice dell'operazione civile più volte si è provato a giocare trova informazione comunicazione la trovate dappertutto ma non è soltanto il codice dell'operazione civile se vogliamo parlare diciamo di oneri che riguardano il settore della protezione civile di informazioni di comunicazione di rischio lo troviamo anche nella materia degli enti locali perché ovviamente abbiamo nel testo unico di pubblica sicurezza lo troviamo ovviamente nella legge fondamentale 150 del 2000 che riguarda tutta la pubblica amministrazione e ovviamente la protezione civile lo troviamo come ricordava Angelo nel decreto sblocca cantieri lo troviamo però anche nella direttiva europea della fine del 2018 che impone che gli stati si dotino un sistema di allarme pubblico finalizzato ad informare i cittadini per quanto riguarda calamità naturali a catastrofi perché è interessante guardare fare una ricognizione del settore che ho detto di protezione civile ma anche degli altri settori perché questo ci consente di cercare similitudini sia per quanto riguarda il contenuto di questi obblighi sia per quanto riguarda la tipizzazione chi è questo soggetto chi è questo superman che deve o questo professionista che deve onerarsi di questi obblighi comunicativi ebbene guardando tutto questo variegato quadro normativo noi troviamo che su una cosa c'è comunanza perfetta gli obblighi e contenuti di tipo informativo sono generici generici nessuna nessuno di queste materie ci dice esattamente che cosa bisogna dire quale come bisogna fare tutti sono generici però solo quello di protezione civile sfugge ad una diciamo perfetta individuazione di chi è il soggetto onerato perché se è in campo sanitario chi è il soggetto onerato? il medico se è in campo industriale chi è il soggetto onerato? il titolare dell'impianto? se è in campo dei cantieri edilizi sarà l'appaltatore? effettivamente in campo di protezione civile la cosiddetta posizione di garanzia è in un cono d'ombra è in un cono d'ombra sostanzialmente per ragioni che sono state già dette cioè legate a questo meccanismo di competenze flessibili variabili flessibile variabili qualcuno direbbe persino liquide come il sistema di protezione civile cioè dove effettivamente le competenze risentono dell'intero sistema ma se questo intero sistema risponde adeguatamente a logiche istituzionali di sussidiarietà decentramento solidarietà vorrei dire temo che non sia invece questo sistema adeguato in relazione diciamo alla perimetrazione delle competenze e basti osservare quanto è già stato dentro che per esempio è stato detto cioè che le competenze riguardano l'evento ma non sono competenze predeterminate perché l'evento non è predeterminato addirittura c'è l'evento tipo A B e C è stato già detto ma guardate che non basta il fatto che non sia predeterminate perché l'evento può essere A B e C ma possono cambiare secondo la fase dell'evento pre durante post e tanto ancora per complicarsi la vita non possono essere predeterminate perché la responsabilità dipende dalla capacità di affronteggiare l'evento dalle risorse e mezzi che uno ha ora sempre tornando al tema della informazione e comunicazione noi che studiamo cioè abbiamo fatto questo lavoro e queste osservazioni sulla base soprattutto della casistica ma oggi anche dell'esperienza noi dobbiamo riconoscere che la legislazione è previgente quella del 2018 il meccanismo della responsabilità vede come ingranaggio fondamentale il sindaco inutile nascondere però non soltanto il sindaco e anche però oltre che dalla legislazione che ho detto se guardiamo anche alla casistica se la casistica fa uno sforzo lo ha motivato bene Davide Amato fa uno sforzo di indicare quali sono i contenuti di questo obbligo informativo e poi dirò della sentenza sul terremoto dell'Aquila che fa uno sforzo enorme diciamo di indicare i contenuti di questo obbligo informativo davvero invece non troverete niente o comunque non troverete un quadro confidente quanto mai definitivo del perimetro delle competenze in materia di comunicazione al punto che secondo me mentre noi facevamo la scuola di formazione ai magistrati l'anno scorso veniva scritta in Cassazione la sentenza sui fatti di 28ene ed è proprio in quella sentenza in materia di protezione civile che viene dato un avvertimento chiarissimo un avviso chiarissimo le Cassazioni non fanno avvertimenti ma l'avviso è chiaro è una chimera deve essere ritenuta una chimera quella di cercare un perimetro di responsabilità individuali per le quali questa è la mia responsabilità e questa è la tua laddove c'è la mia responsabilità automaticamente viene esclusa la tua è una chimera chiude secondo me chiude questa questione con il ed è proprio in materia di protezione civile come è stato già ben detto ben detto ed è secondo me dirimente questo tipo di Cassazione perché vale soprattutto questo principio in tutti quei campi di ambito professionale e dei sistemi complessi dove abita settori come il nostro della colpa professionale infatti prima sono stato semplicemente suggestivo perché se ora vedevo dire la verità anche prima ve l'ho detto ma era soltanto una suggestione non è vero che in campo medico risponde il medico risponde il medico il chirurgo l'internista l'equip non è vero che in campo di sicurezza sul lavoro risponde soltanto l'appaltatore ma risponde anche il committente dei lavori risponde anche il direttore della sicurezza non è vero che in campo industriale risponde soltanto il proprietario dell'impianto ma anche il gestore dell'impianto qualche volta anche i controllori non è vero che nel campo della pubblica sicurezza risponde il prefetto il questore ma per esempio anche il sindaco e anche l'editorino il gestore dell'evento quindi questo è il sistema non si possono distinguere in questa materia dove abita la colpa professionale dei sistemi soprattutto complessi come il nostro non è possibile fare questa distinzione è una chimera come dice bene Cassasene numero 18 dunque che facciamo ci rassegniamo cambiamo mestiere io provo a forfirmi la mia riflessione a riguardo allora io credo che il tema del distinguo delle responsabilità cioè di questo che pur stiamo trattando le dieci anni su cui io ci ho costruito una carriera sopra bisogna diciamo accantonarla perché è un nodo inestricabile è un nodo inestricabile perché intanto la colpa il settore della colpa è un settore non maturo pieno di complessità poi perché il legislatore non è stato capace di realizzare un sistema diciamo organico di colpa professionale poi perché oggi francamente diciamo c'è sempre una maggiore esigenza di tutela quindi non credo che andremo da qualche parte su questo e quindi sarebbe frustrante continuare a lavorare sul tema dell'individuare un perimetro è una linea di confine precisa delle mie e delle altre responsabilità e quindi sarebbe frustrante dicevo e poi secondo me sarebbe anche politicamente un manifesto di retropia perché qualcuno potrebbe pensare che qualcuno voglia tornare a una protezione civile su base prevalentemente di soccorso lasciando stare il resto quindi accantoniamolo questo tema lo dico anche a me che ripeto ci abbiamo lavorato tanti anni perché solo così potremmo aprire nuovi spazi avere forze ne parlavamo con il consigliere cioè quello di trovare il modo di innovare trovare forze per ragionare diversamente a cosa mi riferisco mi riferisco al tema delle condotte delle condotte attese del comportamento alternativo lecito proviamo a lavorare su questo superare il tema dell'agente modello che secondo me è mitologico è un colosso d'argilla quindi allora voglio offrire una mia riflessione non solo sul chi deve fare qualcosa su come fare qualcosa e cosa fare e voglio partire da offrendovi una prima riflessione che secondo me è fondamentale spero di non provocare troppo in quel senso secondo me noi siamo tutti figli della 225 del 92 che aveva un sistema che sapete benissimo l'avete sicuramente già affrontato a queste tematiche che lo diceva la corte costituzionale a geometria variabile un sistema a geometria variabile sostanzialmente lo schema di un'organizzazione complessa a carattere policentrico questa era la corte costituzionale perché secondo me c'è un dato di novità rispetto alla 225 del 92 il legislatore del 98 invece oggi secondo me ha offerto un sistema che è spiccatamente collaborativo e partecipativo lì secondo me dobbiamo incominciare a pensare al cosa fare rispetto al chi perché davvero era frustrante in un sistema policentrico a geometria variabile dire chi invece oggi sul come e sul cosa prendiamo atto che il legislatore 2018 ha realizzato un sistema collaborativo e partecipativo e lo fa perché sta perfettamente nel solco di Sendai lo sta perfettamente nel solco di tutte le raccomandazioni UNNDR perché ormai il tema della governance territoriale è quella e allora secondo me non a caso il cuore di questo sistema così come nevato nel 2018 e lo pensano i più acuti osservatori è quello della pianificazione perché la pianificazione può essere considerata il motore il primo agire della prevenzione e poiché il legislatore 2018 dice che la pianificazione è fatta da tutti non c'è nessuno che sta fuori dalla pianificazione ci stanno dentro le autorità di protezione civile il presidente del consiglio il presidente della regione il sindaco ma ci sta anche il cittadino ci deve stare il cittadino e mezzo ci stanno gli scienziati ci stanno i dirigenti tecnici ci stanno gli amministratori locali allora ecco vedete che il fondamento collaborativo e partecipativo attraverso la pianificazione è il nuovo impianto di questo sistema ed è qui secondo me che devono inserirsi gli oneri di comunicazione cioè io credo che nella pianificazione abbiamo il luogo in cui scrivere le condotte attese anche perché se lì possiamo scrivere le condotte attese e sto parlando del tema dell'informazione oltre che potrei parlare del resto ma io mi sto limitando il tema dell'informazione e la comunicazione di rischio se lì dentro nella pianificazione è fatta in questo modo noi scriviamo le condotte attese il comportamento alternativo lecito sottraiamo il magistrato la possibilità di trovarle altrove con distorsioni cognitive ora non voglio dire che lì dobbiamo per forza avere i protocolli ma certamente lì potremo fare dei protocolli e guardate che stiamo già andando così non sto suggestionando proprio niente penso alla proposta direttiva sulla pianificazione del dipartimento che lo dice chiaramente per ora non è ancora diritto cogente ma siamo vicini la migliore legislazione regionale lo dice lo dicono i progetti e sapete di cosa parlano parlano di piano della comunicazione parlano di un piano della comunicazione come parte essenziale di una pianificazione integrata per la riduzione dei rischi insomma io credo che lì dentro noi possiamo inserire queste condotte attese e noi lì dentro possiamo inserire anche le condotte attese che riguardano i cittadini non più soltanto il nostro modo di comunicare e di informare ma anche il modo con cui i cittadini comprendono e accettano questo tipo di comunicazione perché i cittadini devono diventare autori di questo piano e dunque diventano essi stessi destinatari di specifici obblighi di autoprotezione e più in generale di prevenzione e andiamo allora a qualcosa sulle modalità perché ho detto quindi il luogo è la pianificazione ed è specificamente il piano di comunicazione andiamo ai contenuti sui contenuti ci aiuta sia la giurisprudenza sia molta casistica sulla giurisprudenza dal più ampio principio che però secondo me è dotato di grande tassatività che è quello della sentenza dell'Aquila l'operatore di protezione civile leggo è tenuto ad adeguare il contenuto della comunicazione pubblica a un livello ottimale di trasparenza correttezza scientifica delle informazioni diffuse e adottare il linguaggio comunicativo ai canoni della chiarezza oggettiva comprensibilità e iniquificità espressiva incominciamo ad avere già un decalogo se poi lo mettiamo insieme a tanta giurisprudenza su questo tema abbiamo già un modello comunicativo quando prima vi dicevo che c'è assoluta genericità sui contenuti se guardiamo questa giurisprudenza che ora vi sto offrendo partendo dall'heading case dell'Aquila noi sappiamo già come l'operatore di protezione civile deve muoversi in materia di comunicazione quando per esempio ci sono situazioni di incertezza e cioè nei nostri casi pressoché sempre i previsori sono tenuti ad esplicitarla questa incertezza dando conto dei limiti della valutazione questo i previsori i gestori debbono far conseguire da questa precisazione da parte dei previsori una comunicazione accorta e trasparente debbono i gestori fornire indicazioni adeguate e determinate il che significa specificità significa consistenza significa chiarezza significa verità allo stesso tempo tutto questo deve tenere conto anche diciamo del controllo emotivo del destinatario quindi verità trasparenza specificità ma allo stesso tempo sapere che va verso un soggetto che deve essere che può essere suscettibile di una reazione e quindi questa deve essere una capacità perché venga evitato il panico attraverso anche diciamo rassicurazionismi diciamo di tipo generico un'altra cosa che viene chiesta in questa sentenza è importante l'operatore di protezione civile non sta in un vacuum non parla da solo non è l'unico col megafono a parlare sta in un panorama informativo che cosa deve fare deve sapere distinguersi perché è chiaro che il resto dell'informazione è molte volte assoggettata diciamo mi spiace che non ci sono i giornalisti o editori ma molte volte l'informazione è legata a questioni diciamo di mercato allora tu devi essere capaci di distinguerti di essere diverso perché solo così sei riconoscibile in questo però in tempo di pace questo in emergenza ma bisogna fare il lavoro prima in tempo di pace l'operatore il comunicatore deve assicurarsi con il cittadino un apporto collaborativo per creare un legame fiduciario perché solo questo apporto collaborativo e questo legame fiduciario fa sì che in emergenza quella comunicazione sia distinta perché se io col comunicatore con l'operatore di presenza civile insieme ho creato quel piano e so che quella è la sua comunicazione rispetto alla comunicazione di un altro soggetto intanto ho un legame fiduciario e poi la riconosco l'accetto per me è quella che mi conduce a guidare i miei comportamenti poi oltre la giurisprudenza ci sono le buone pratiche che ci sono anche in altri settori guardate la legge Seveso che sarà pur sempre una legge piena di insomma di bachi però per esempio è obbligatorio per il prefetto che il piano di emergenza esterna sia fatta consultando la popolazione non c'è piano di emergenza esterna sul rischio industriale dove il prefetto prima della sua adozione non debba consultare la cittadinanza l'agenzia europea per la sicurezza alimentare che sta a Parma ha delle linee guida dal 2012 2015 2017 in cui intanto ha costituito una rete dei comunicatori cioè finalmente ha professionalizzato questo soggetto e questa rete dei comunicatori ha battezzato ormai come non esista comunicazione senza che questa non sia condivisa con i portatori di interesse e con i consumatori e cioè i cittadini ma poi possiamo anche imparare dagli errori diciamoceli ICMESA Cernobil ma noi abbiamo l'esperienza dell'Aquila voglio dire abbiamo l'esperienza positiva anche che so io della Garfagnana abbiamo anche la diga di Campotosso nel 2017 impariamo da queste cose facciamo un'analisi di che cosa è successo in quelle situazioni possiamo attingere anche dalla pianificazione di protezione civile partecipata che abbiamo già fatto in Liguria Emilia in Toscana fino all'esperimento recentissimo dell'eserciazione Campi Flegrei con il comune di Quarto dove la comunicazione con la popolazione intanto ha fatto scoprire che anche in campo vulcanico c'era il tempo di mettersi in salvo perché molti di loro prima di quel percorso pensavano che quando il vulcano si fosse risvegliato era meglio rivolgersi a San Gennaro tutto questo è ovviamente materiale per un possibile protocollo tutto questo è materiale per dare vita quanto prima all'osservatorio delle buone pratiche che è in capo al Dipartimento ai sensi dell'articolo 8,1 lettera è nucleata così la condotta attesa ovviamente possiamo che vale per gli operatori ma vale anche per i cittadini se adeguatamente coinvolti tenete conto che mi ricordo che nel libro si parla di obbligo di ottemperanza dei cittadini però guardate articolo 31 se non ricordo male l'obbligo di ottemperanza è solo se l'autorità dà obblighi conformi alla pianificazione e vedete che si ritorna qui cioè io posso aspettarmi un comportamento che nasce dalla mia comunicazione di ottemperanza ma non può essere un ordine avulso deve essere coerente agli strumenti di pianificazione e qui torna secondo me il cardine della pianificazione e dunque è evidente secondo me che l'efficacia dell'allertamento qualsiasi allertamento sia dipende dalla strategia di comunicazione che si fa in tempo di pace quindi ricapitolando vado a conclusione non è praticabile inutile perdereci del tempo a cercare perimetri della nostra responsabilità rispetto a quella di altri è uno spreco di risorse dobbiamo saperlo accettarlo essere noi primi e essere resilienti su questo occorre collocarsi in maniera innovativa in questo sistema di protezione civile bisogna considerare la prevenzione diciamo strategica per la prevenzione la comunicazione e l'informazione ai cittadini bisogna esplicitare regole di comportamento per tutti gli attori del sistema cittadini compresi in un piano di comunicazione che sia diciamo lo strumento cardine per quella che io chiamo pianificazione di resilienza pianificazione di resilienza dentro un processo deliberativo partecipato concludo secondo me è urgente non me ne vogliano i tanti amici ingegneri quelli di abbandonare un approccio di tipo ingegneristico alla comunicazione e al rischio cioè perché lì c'è un concetto di rischio espresso in maniera misurabile in qualche modo su base probabilistica e viene tradotto e trasferito quasi in maniera lineare in termini esperti e molte volte pretende una risposta razionale da parte di un soggetto che viene considerato soggetto passivo e profano questo tipo di approccio secondo me è aberrante e in altri campi non dico in protezione civile ma in campo ambientale dove sono più esperto ha prodotto veramente delle aberrazioni di un sistema quasi esiziale penso a casi dell'ILVA e dell'Axilella lì dove appunto tutto è andato in un certo modo l'informazione ambientale è passata così assistiamo a un conflitto di tutti contro tutti cittadini comunità scientifica scienziati ovviamente autorità politica decendente ma mi dispiace financo magistratura e lì in questo modo secondo me si consolida una cultura della sfiducia e alla fine anche della ricerca di un capro espiatorio io allora ritengo e concludo avvero che è un forte investimento sulla pianificazione sulla redizione condivise di protocolli di regola e di regola di comportamento di tutti degli operatori della comunità scientifica degli cittadini possa produrre risultati utili sia in termini alla fine di una migliore perimetrazione della responsabilità individuale ma sia secondo me di qualità del sistema nel suo complesso che così a mio modo di vedere sarebbe molto più orientato ad una just culture rispetto che a una blame culture e ritengo che per fare ciò bisogna passare in fretta quanto prima dal paradigma dell'uomo avvisato mezzo salvato a quello del cittadino salvato piano comunicato grazie 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 marco prima di andare alle conclusioni volevo sapere se dalla sala o dalle regioni che sono collegate in videoconferenze c'erano delle domande c'erano delle suggestioni c'era qualche qualche ulteriore spunto che possiamo raccogliere se ci fossero domande per il consiglio a dovere perché se ne sta andando se no posso un assoluto grazie per questa straordinaria opportunità che ci avete dato grazie 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 per questa straordinaria opportunità che ci avete dato al consigliere dovere volevo fare una domanda rileggendo un attimino la parte conclusiva del suo intervento quando lei ha parlato che il gestore del rischio nell'ambito di quelle che sono le sue competenze e anche il suo dovere deontologico deve attenersi o dovrebbe ispirarsi quanto più possibile la migliore scienza e quindi lei ha parlato anche dei cosiddetti standard le chiedo le faccio questa domanda secondo la sua esperienza per un operatore un gestore del rischio questi standard sono sempre così chiari e individuabili e nella misura in cui questi non sono individuabili allora devono essere assimilati a quanto ha detto il dottor Altamura e quindi rifarci a un quadro giurisprudenziale questa è la domanda grazie sì grazie le rispondo rappresentando un'esperienza recente della legislazione che è quella in materia sanitaria il legislatore non soltanto per consentire al medico di attenuare il proprio carico penalistico ma anche proprio per rendili disponibili più facilmente disponibili il patrimonio scientifico consolidatosi al riguardo di questo o quel tema ha stabilito di dare rilievo anche penalistico alle linee guida e alle condotte che si conformano alle linee guida il riferimento che faceva l'avvocato Altomura alle buone prassi ai protocolli si salva con questo discorso è chiaro che se la protezione civile in qualche modo riesce ad esprimere ad esplicitare anche sul piano normativo questo guardare alle linee guida che valgono nei diversi settori realizza lo stesso risultato dà un'indicazione consente al singolo operatore di non dover andare a colmare un gap conoscitivo personale perché trova già consacrate già soltanto con una investitura formale fatta dall'ordinamento quel patrimonio di informazioni che a lui sarebbe difficile raggiungere in solitario quindi diciamo il sistema potrebbe mutuando esperienze che si sono già consolidate fuori dal settore della protezione civile potrebbe dare risalto a linee guida che sono l'essudato il precipitato di ciò che la scienza propone in determinati campi per esempio appunto nella scienza della comunicazione piuttosto che in altri settori che ovviamente poi il vostro problema è che la stessa cosa si verifica pure per l'attività sanitaria il panorama è estremamente ampio e infatti ci sono dei deficit all'interno del sistema ideato dalla gelli bianco che è la legge che si è occupata da ultimo di questo in materia sanitaria perché è difficile che l'istituto superiore di sanità riesca ad avere il passo dell'evoluzione scientifica nella sua competenza a mettere il timbro sulle linee guida attraverso il sistema nazionale delle linee guida che è stato congenato legislatore però credo che uno dei contributi che possono essere sviluppati è proprio quello di offrire all'operatore una sorta di libreria delle linee guida dei protocolli operativi delle buone prassi poi c'è anche una terminologia molto variegata che nasconde fenomeni diversi ai quali poter fare riferimento quantomeno in prima battuta non è risolutivo perché poi come nel settore sanitario rimane la responsabilità del singolo operatore è quello di scegliere la linea guida adeguata al caso concreto e caso mai quindi di dover rispondere per una scelta errata grazie altre sì sempre per il consigliere dovere un'altra domanda può generare qualche più cosa innanzitutto volevo capire ma questo servizio nazionale di protezione civile è comunque non definito perché non è definito innanzitutto nei contenuti minimi nei livelli delle prestazioni che deve dare chi è poi questo operatore di protezione civile che formazione deve avere e anche questo diciamo è un aspetto che ci riguarda poi condivido pienamente il processo di cambiamento nel metodo finalmente della pianificazione ma questo implica anche un ripensamento un pochino generale per esempio la commissione grandi rischi si dovrebbe aprire anche alle scienze comportamentali diciamo perché noi del famoso binomio gruppo sociale territorio che Rocco di Passi ometteva diciamo il legame indissolubile perché ci sia un'azione di protezione civile rotto il quale non è un'azione di protezione civile ma si sta facendo altro noi però decliniamo sempre solo chi diciamo legge il territorio ma mai chi legge il gruppo sociale e quindi l'apertura diciamo alla commissione grandi rischi a queste scienze ma anche nel metodo di protezione civile anche per esempio una riconversione dei linguaggi perché tempo di pace e tempo di guerra è vero che la dichiarazione di stato di emergenza diciamo implica una sospensione dello stato di diritto però è il tempo della prevenzione è il tempo della pianificazione e del tempo della gestione del trauma cioè anche linguaggi implicano attitudini posso un attimo intervenire io perché il discorso credo che sia importante anzi importantissimo per noi quello che stiamo facendo come dipartimento è recuperare un gap di pianificazione soprattutto di indicazioni operative per la pianificazione lo sanno i colleghi che sono intervenuti adesso perché io sono alla protezione civile dal 2002 ho la responsabilità del dipartimento dal 2017 e in 15 anni abbiamo parlato di pianificazione ma non so perché non ci siamo preoccupati di dettare le linee guida per rendere omogenee le pianificazioni territoriali di protezione civile le pianificazioni sono date ognuna per conto proprio la dico così come la penso quello che stiamo invece facendo grazie alla rinnovata spinta del codice della protezione civile è una direttiva ai sensi dell'articolo 18 del codice in cui andiamo a disciplinare tutti questi aspetti compreso gli aspetti della comunicazione gli aspetti dei comportamenti da tenere da parte dei cittadini ma soprattutto per rendere omogenee omogeneizzare la pianificazione se noi vogliamo avere un approccio molto positivo lo dobbiamo avere rendendo la pianificazione del comune di Palermo omogenea rispetto a quella di Milano rispetto a quella di Venezia rispetto a quella di Belluno rispetto al comune di Canigatti perché se noi vogliamo restituire una esigenza di protezione ai nostri concittadini lo dobbiamo fare con questi strumenti IT Alert lo sapete bene la app che stiamo creando che vanno a pescare dalle pianificazioni di protezione civile le informazioni necessarie per la gestione del rischio quindi quello che vedo io al di là del percorso e sono felice del percorso giurisprudenziale che si sta facendo sulla responsabilità c'è ancora una scarsa considerazione da parte di chi gestisce il territorio sui piani di protezione civile lo ricordo perché siamo andati insieme a Luigi D'Angelo noi abbiamo avuto nell'ambito della settimana della protezione civile un evento che era la giornata in cui i prefetti incontravano i sindaci e facevano il punto sulla pianificazione di protezione civile io sono stato colpito perché se vi ricordate era il 16 ottobre la giornata in cui ci doveva essere il presidente del Consiglio dei Ministri i presidenti delle regioni Anci Upe Uncem il prefetto di Chiedi esce con un'agenzia alle 13.40 e dice oggi nella giornata di protezione civile io come ho avuto indicazioni dal presidente del Consiglio dei Ministri ho convocato i sindaci della provincia di Chiedi su 108 sindaci erano presenti 8 sindaci io che cosa ho fatto? Ho chiamato il prefetto ho detto hai fatto bene a lamentare questa cosa riconvocali per il 7 di novembre siamo andati lì e abbiamo trovato 80 sindaci abbiamo parlato di queste cose abbiamo detto quanto era importante la pianificazione ma poi sono venuti fuori quelli che sono i problemi cronici i sindaci non hanno i segretari comunali non hanno i tecnici e quindi ci barcaminiamo purtroppo nella protezione civile come nel resto delle competenze del paese in una situazione in cui la ristrettezza delle risorse umane strumentali non consente di arrivare ad avere un livello accettabile anche di quelli che sono i servizi che devono essere restituiti però concludo ricordando che la rivoluzione copernicana e voglio ringraziare i colleghi che sono in collegamento delle regioni tutti i colleghi delle regioni noi con questo lavoro che stiamo facendo negli ultimi due anni stiamo superando anche l'approccio che noi rispettiamo di una legislazione concorrente che deve rimanere tale ma su alcuni approcci come l'allertamento la pianificazione e altri approcci essenziali devono essere omogenei a livello nazionale altrimenti saremo nella babele della protezione civile direi che il capodipartimento ha fatto le ha fatto le conclusioni vi ringrazio per la grande pazienza e buona serata grazie a tutti grazie 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 grazie